Perdonate la ruggine, sono stati dieci giorni parecchio complicati, perché prima sono stato a Bucharest, e prima di Bucharest comunque era il weekend, giorni in cui di solito non streamo. Dopodiché, una volta tornato da Bucharest, ho fatto due giorni di live, poi sabato sono andato al compleanno della ragazza di Diego, domenica ho fatto una live di FIFA in cui ho bestemmiato per tre quarti del tempo, ieri che era il primo maggio mi sono preso una serata libera per poterla passare con Claudia, che era a casa dal lavoro, dato che il posto in cui lei lavora era proprio chiuso, in vista del primo maggio, e oggi torniamo, in tutti questi giorni ho registrato un video, e ho fatto tre live in dieci giorni, sono completamente fuso, sono completamente arrugginito, non ricordo più come ci si comporti davanti a una videocamera, però in tutto questo, ciao amici, buonasera, come state? Spero tutti bene, spero che abbiate passato un buon... Che cazzo di giorno è? Oggi è martedì, salve! Ah 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 ah! Ehm, no, non siete miei amici, silenzio, non vi vuole nessuno, siete degli spettatori di un programma TV, ricordatevelo sempre, gli youtuber non sono vostri amici, ma gli youtuber sono persone che semplicemente vi vedono come banconata ambulante, quindi mi raccomando, amici di Tearless Live, iscrivetevi al canale, smasciate like al video, iscrivetevi anche al primo canale Tearless Raptor, dato che è quello principale, dove carico i video quelli belli, e non soltanto le repliche delle like che faccio su Twitch ogni dia al venerdì, e basta, cos'altro dovevo dire? E niente, ragazzi, sono un pessimo youtuber, smasciate like, iscrivetevi, sono anche un pessimo streamer, passate in live, venite a fare la sub che è gratis col Prime, insomma, datemi i vostri soldi, maledetti infingardi, da Tearless Shitposting è vero, dovrei ricominciare a caricare le clip, perché mi dimentico di farlo, io mi dimentico sempre dell'esistenza di Tearless Shitposting, la cosa è abbastanza ridicola, ma vabbè, che ci volete fare, che ci volete fare? Ciao Gabri, grazie per il trentunesimo, bentornato anche te buon uomo, bentornato, 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 Allora, domanda al volo, domanda al volissimo, per caso qualcuno di voi ha Pokémon Scarlato e Violetto? Perché io ho aspettato un sacco per fare questa serie, in realtà ho aspettato qualche settimana in più del previsto, perché volevo attendere Pokémon Home, tuttavia Pokémon Home ancora non è stato collegato a Pokémon Scarlato e Violetto, quindi l'unico modo che ho per passarmi le Chonkshiny da Pokémon Scarlato, dove l'ho catturato, a Pokémon Violetto, dove sarà il protagonista, ho bisogno che qualcuno mi faccia il doppio scambio, ho proprio bisogno di questa cosa, serve anche l'online, sì, serve anche l'online ovviamente per potersi collegare, se non ce l'ha nessuno, devo chiamare, tipo, Dani, sperare che ci sia a casa Dani, o Simo, alle otto e mezza, ma Simo arriva alle otto e mezza? Non lo so, comunque spero di riuscire a fare tutto quanto prima, ok, beh, ma... Mi basta una persona che ce l'abbia, e una persona che non faccia la stronza che poi se lo tenga il mio povero le Chonk, perché c'è anche quello, c'è anche quel rischio lì, in effetti, che qualcuno di voi poi se lo tenga. Ma no, ma non comprarlo, Brenda, non so neanche perché tu l'abbia venduto, pensavo lo volessi riavere. Cioè, ma quindi tu in questo momento mi stai dicendo che gli shiny che ti hai ricatturata durante la tua avventura ora sono miei, è quello che mi stai dicendo. Ma io pensavo che mi dovessi tenere temporaneamente, finché non te lo riprendevi, la Switch, non il gioco. Non ho capito perché ti abbia dato via il gioco, vabbè, comunque, torniamo a noi. Non è che non ti ascolto, è che semplicemente non ascolto le cose, o meglio, ascolto le cose come voglio io. E siccome mi sembrava stupido quello che avevo letto, magari l'ho interpretato diversamente. Vabbè, 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 vabbè. Sì, ho capito, però, cioè, non lo so, vabbè, questo sono io, anche se è un gioco a cui non gioco, se l'ho comprato e ce l'ho fisico, a maggior ragione lo tengo. Se è un gioco a cui magari non ho mai giocato e che posso rimborsare perché non l'ho mai giocato e non intendo farlo, poi non conto, ma così. Vabbè, vabbè, vabbè. Comunque. Ti ero, pensavo che la Subcall Prime si aggiornasse automaticamente. Nope. Nope, non si aggiorna automaticamente. Quella, quella va rifatta a mano ogni singola volta. Ma poco importa. Ok, se ti hanno fatto più sconto, allora posso capire. Posso capire. In che senso ora che c'è Pokémon Home, si umete? Davvero hanno creato il collegamento per Pokémon Home, non credo. Non penso. Sto guardando, perché se lo hanno aggiunto oggi è un qualcosa di meraviglioso. Sappiate che non ero al corrente. Trasferimento. No. Pokémon. No, non è collegato. Menzogneri! Menzogneri! No, 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 no. Non l'hanno creato il collegamento ancora. È una cosa che faremo, diciamo, con più passaggi. Avrò bisogno di qualcuno della chat che mi dia una mano a effettuare questi scambi. Io gli mando le chonk da Scarlatto a voi e poi voi me lo rimandate su Violetto. Ok? Comunque, 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 comunque. Ok. Io direi che a questo punto, ciancio alle bande, bando alle ciance, buonasera e benvenuti a questa nuova live, questa nuova serie Pokémon in cui... In cui l'obiettivo è uno, è molto semplice. L'obiettivo di questa serie sarà riuscire a battere Pokémon Violetto utilizzando un singolo le chonk. Perché le chonk? Perché è il mio nuovo Pokémon preferito. Dal momento esatto in cui me l'hanno mostrato in quel primissimo trailer di Pokémon Scarlatta e Violetto, è diventato il mio Pokémon preferito. E quindi ho deciso di farci una... Ok? Ok, benissimo. E da quando hanno annunciato le chonk che questo è diventato il mio Pokémon preferito, quindi vi avevo promesso che qualche mese dopo l'uscita di questi giochi, dopo il gameplay originale, avrei tentato un'avventura con solo le chonk, ma non sarà un le chonk qualsiasi. Pensi si tratterà di un le chonk shiny che ho catturato durante una live di shiny hunting che ho fatto qualche mese fa. Io direi che abbiamo chiacchierato abbastanza quest'oggi, certo, sono in live soltanto da tipo 20 minuti, il che di solito è soltanto il... Vabbè, ci siamo capiti, no? Vabbè, vaffaculo. Pokémon Scarlatto con solo le chonk. Avremo un singolo le chonk shiny che dovremo portare dall'inizio della nostra avventura fino alla fine della nostra avventura. Ovviamente le prime ore di gioco probabilmente le dovremo fare con soltanto lo starter effettivo, però poi una volta che possiamo catturare Pokémon, le chonk, io lo vado a prendere e lo sca... Eh? Eh? Pokémon. Allora. Sono sincronizzati bene gli audio, perché come sempre l'audio della Switch è un pochettino fuori fase. Ma do oggi, oggi, delle cerebro scurengie incredibili. Ok, allora. Ciao amici, bentornati con la no... come cazzo si chiamava sta allenatrice? Era Teresa! Ciao amici, date il bentornato a Teresa e al... Ma non far casino, figa! Allora. Questa è Teresa. Lei è stata la protagonista delle nostre avventure su Pokémon Scarlatto, che non solo ci hanno visto completare al 100% il gioco, bensì ci hanno anche visto fare un po' di shiny hunting. E con le varie sessioni di shiny hunting ci siamo anche riusciti a procurare quello che sarà oggi il protagonista del video. Stiamo parlando di questo magico le chonk. Eh? Ah, che bell'uomo! Questo le chonk qua sarà il protagonista di questa nuova serie. Serie in cui dovremo cercare di battere Pokémon Violetto, quindi l'altro titolo, quello che non ho affrontato, perché io ho fatto Scarlatto all'inizio. E basta, io non so più parlare. Oggi ho scelto... Ho scelto una pessima giornata per iniziare questa serie, perché, cioè, siccome poi da questa cosa presumibilmente ci uscirà anche un video, se io non so parlare, dove cazzo voglio andare? Vabbè, grazie Cloruri per il quindicesimo, un bacione, buon uomo, bentornato. Thank you per i quindici, grazie anche a Gabri per i trentuno, a Polifrat per i tre, e a Jerry per i quarantuno. Un bacione, un bacione, un bacione. Allora, non me ne frega assolutamente niente del fatto che le chonk shiny sia più brutto del le chonk base, ma siccome questo le chonk sarà il protagonista assoluto, assoluto di ciò che stiamo per andare a fare, volevo che fosse speciale. Quindi, cosa c'è di più speciale di un le chonk shiny dentro una dreamball? Niente! È tipo la cosa più particolare che tu possa avere su questo gioco. In realtà non è assolutamente vero. Però vabbè, facciamo finta che lo sia. Comunque, questo le chonk shiny è stato catturato in data 20 dicembre 2022, quindi di fatto più di quattro mesi fa, e oggi finalmente verrà utilizzato per questa nuova serie. Ora, prima di cominciarla, però, ho da chiedervi un favore. Cioè, che qualcuno di voi vada a scambiarmelo, però prima ancora di farlo. Uno, vi acceco gli occhi con il tema base di... di Pokémon... cioè, di della Switch 2. Prima di fare qualsiasi altra cosa, signori, io direi di cominciare da qua. Signore e signori, buonasera, e benvenuti ufficialmente in questa nuova serie in cui cercheremo di battere Pokémon Violetto con un solo le chonk, un unico le chonk shiny che ho catturato su Scarlatto. Quindi ora iniziamo, facciamo le prime fasi di avventura e poi qualcuno mi dovrà scambiare le chonk tra i due giochi perché ancora Pokémon Home non c'è, porco di quel cazzo. Cominciamo creando il PG. Su Pokémon Scarlatto abbiamo avuto... non Paola. Allora. Su Pokémon Scarlatto abbiamo avuto la nostra protagonista Teresa. Qua direi di prendere un signorino e il signorino lo andrei a chiamare come? Che nome gli diamo al signorino. Paolo. Lo chiamiamo Paolo? Visto che ho mischiamato Paola. E poi lo sistemiamo col colore di capelli, tranquilli. Allora. Chia... piano. Paolone. No, Paolone no, è piccolino. Non puoi chiamarlo Paolone così piccolo e fragile. Ok, chiamiamolo Paolone. No, vada per Paolo. No, no, lasciamo Paolo. punto primo all'ordine del giorno. Che capello facciamo al nostro Paolo, il protagonista di Pokémon Violetto con solo le Chonk? Perché questa è tosta, eh? Gusberto. Allora, questo mi spiace ma non mi piace. questo è il taglio di capelli di Teresa, quindi no. Questo è da prendere a schiaffi. Grazie Mitch, poi le prai bubaciore. Allora, potessi farlo pelato, Paolo lo farei pelato. Credo che l'unica cosa di decente, di simil pelato sia, non è neanche questa. Davvero non esiste un taglio di capelli pelato? Che cosa stupida. Allora, il taglio di capelli Pompadour non mi dispiace affatto. Questo è da prendere a schiaffi. Questo anche, sembra Barry. Prova a farla, non è possibile farla somigliare a un le Chonk. Ma Roma, questo è testa di cocco di Ned Scuola di Sopravvivenza. Incredibile. Caschetto asimmetrico marocco e fastidio. Posso dire che mi danno fastidio tutti i tagli di capelli. Cioè, da ragazza sono perfetti tutti, da ragazzo non me ne piace uno. Forse tra tutti il meno peggio era Pompadour. No, 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 allora, allora, no, 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 ah, giustamente, partiamo col colore. Io non riesco, non riesco a decidermi su dove attaccare la registrazione per questo cacchio di video, di serie, perché, cioè, qualsiasi momento è buono, qualsiasi momento è pessimo. Facciamo che avviamo la registrazione, da questo momento in poi quel che accade, accade. Allora, posso dire che sarebbe lame mettere i capelli viola a un personaggio di Pokémon violetto. Cioè, abbastanza lame. Ci sono anche i capelli scarlato, fichissimo. Rosa come le Chonk. Ecco, rosa come le Chonk potrebbe non essere un'idea stupida, però è troppo spento e ricordo la pululu di Pokémon Scudo e spada. Belli i capelli colori Indaco, Fra. Indaco sono proprio belli. C'è un rosa più acceso, non credo. Sì, c'è il lavanda. Grazie Anthony, un bacione. o castano rosato. Posso dire che Indaco mi piacciono parecchio, però temo che già il taglio di capelli Indaco poi vada a cozzare con i colori viola della divisa e mi dà fastidio la cosa e non poco. Ma se invece facessi la persona triste e gli facessi i capelli neri e basta? Eh? Cioè, che male ci sarebbe? State scrivendo tutti rosa. Eh vabbè, e famoglieli rosa. Ah, guarda che c'è il rosa, è vero! Minchia quanto è acceso sto rosa, va bene, allora ok. Taglio i capelli. Scusate, non avevo visto il rosa normale, perdonatemi. Posso dire che fanno cagare tutti quanti lo stai... Taglio di capelli a scodella non glielo posso mettere, dai. per favore. Perché con quegli occhi lì fra? Si sta addormentando, si sta rompendo i coglioni. Posso andare col capello pompadur è quello che mi piace di più. Sarò sincero. Capello pompadur va bene così. Modifica l'aspetto ora. Oh no, la forma degli occhi. Questa è una cosa fondamentale. Occhi 8. Mi piace 8. Lenti colorate. rosa. C'è rosa? C'è rosa? Ah, yes. Le cionchico. Allora. O gli occhi glieli facciamo rosa oppure andiamo con un colore completamente insensato tipo multicolore. Così agli stessi occhi del Miraidon, eh? Fighissimo. Oppure così. Completamente privi di alcun tipo di emozione. Posso dire che il colore di capelli vuoto tetro non mi dispiaceva. Oh, guarda che bellino che è così. Vuoto tetro. Ciglia. Non capisco cosa sia quella linetta rossa nera in basso ma va bene. lasciamo le basi direi. Dite che cam... Minchia, questi sono spiritati te prego. Allora. o così con l'occhietto piccolo ma così è abbastanza inquietante. Poi sopracciglia voglio una sopracciglione spessissima. Ma che è sto sopracciglio qua? Ma gli hanno fatto la permanente alle sopracciglie ma che è sta robaccia? colore sopracciglia rosa eh, rosa rosa aha non penso di poter fare il monociglio purtroppo o posso? No, non posso fare il monociglio pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Togliere rosa. Labbra. Boh. Chi se ne frega delle labbra? Così c'è la faccina UV. Che carino. Poi, prego, togli la faccina UV. Ma no... Chat, io non posso lasciargli le labbrine a UV, per favore. Intanto grazie Regi per il settimo, bentornato, un bacione. Sì, però in effetti gli dà un po' che... Così sembra triste della vita. Mi descrive. Quali sono i pronomi di Paolo? Pa-olo. Rossetto? No, no, no. Facciamo di le labbra un pochettino più scure, va bene così. Neo. Mettiamo dei nei a Paolo. Questo sembra trucco. No, niente nei, Paolo. Però con le lentiggini lo facciamo, Paolo. No, niente lentiggini. Ok. Ma no, ma allora, non è arancio quel colore lì. È come se fosse naturale, no? Come se fosse un colore di labbra naturale. Ok, vabbè, è teoricamente arancione, però vaffanculo. Ok. Incredibilmente la creazione del personaggio è durata soltanto 5-6 minuti. Sinceramente avrei detto molto di più, ma... Signore e signori, siamo ufficialmente pronti per cominciare questa nuova challenge, questa nuova sfida che comporterà, o meglio, che ci porterà... Eh, vabbè, non so parlare. Ma io perché... Allora, fermi. Io oggi non so parlare. Oggi sono palesemente in crisi. Ciao, amici di Tierless Live. Scusatemi, sono completamente impepechito, ma... Poco importa. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Pokémon Scarlatto con solo le Chonk. Un singolo le Chonk, Shiny, ci accompagnerà per tutta quanta l'avventura del nostro Paolo in quel di Paldea, però intanto cominciamo l'avventura di Paolo. E io, io, mi sa che la intro la rifarò 12 volte. Ah, guardalo qua. Domanda di iscrizione all'Accademia Uva. Lingua, italiano, nome Paolo. Ciao, Paolo! Che ometto. Eh, è vero, è violetto. Vabbè, vaffanculo. Ho sbagliato. No, non Uva di Uvu, Uva. Vabbè. Tanto la intro la rifarò sicura. Accademia Uvu. Coltivare il talento individuale per creare un futuro rigoglioso. Che lentezza, fratevo. Marò. Ah, devo premere A, io, ecco perché non andava più avanti. È arrivato il momento. Il momento di entrare nel mondo dei Pokémon. Wow, stratopico. Sì, poi si stiamo con tutte le impostazioni. Oh no, quant'è cursato vedere Clavel con la camicetta viola. Io non ci sono abituato. Io ho giocato scarlatto, quindi così è proprio sbagliato. Mi presento. Io sono Clavel. Il preside... Il preside... Ah! Giornata sbagliata. Mi presento. Io sono Clavel, il preside dell'Accademia Uvu. Paldea è una regione ricca di nature e di terre rigogliose. Grazie. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. E grazie, uomo numero, per il ventesimo di Resab. Un bacione, thank you. Signor Clavel, allora posso dire che la giacchetta viola è molto cursata perché non sono abituato a vederla. Però le sta meglio. Devo ammettere che la giacchetta viola gli sta meglio a Clavel rispetto a quella arancione. Ok, posso dire un grande e sonoro chi se ne frega della intro perché tanto la storia già la sappiamo. Chi se ne frega. Tutto ciò non avrà il minimo senso una volta che avremo il nostro lechonk. Bla 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 bla. Guarda qua questo Pokémon che si chiama Max. Giri le lettere e diventa Cam. Haha, molto funny. I nostri corsi sono appositamente creati per sviluppare il potenziale di nostri alunni. E anche l'edificio è sviluppato per riflettere delle luci in maniera assaggiorata. Si unisca a noi per trovare nuovi amici, conosce nuovi Pokémon e non darmi il tempo di finire di leggere. Spero vivamente di averla presto qui tra noi all'Accademia UV. Grazie Clavel, arrivo subito, mi dia un secondo. Tutte e tre le vie. No, no, il gioco va finito. Ah yes, questa magica scena iniziale con Miraidon. È vero che c'è Miraidon in violetto, continuo a dimenticarmelo. Cacciao! Elegante come una berlina, scattante come un go-kart. E come un gioco che va a 15 fps. Però non nella scena iniziale, nella scena iniziale va tutto benissimo. Mayday, mayday. Stiamo perdendo controllo. Regà, abbiamo bevuto prima di guidare. Aiutp! Splash! Mongey, perché non fa ridere, semplicemente? Ah, eccolo qua, il nostro Paolone. Guarda che ometto. Salve! Benvenuto a Paldea. Sei pronto per andare a scuola? Che culo farà? Alzati. Paolo, punto primo all'ordine del giorno. Posso cambiarti l'aspetto della divisa? No. Siamo costretti a stare qua per sempre con questa divisa qua. Tremendo. Le scarpe fanno altamente cagare, ma anche lo zaino fa altamente schifo. Quindi appena potremo farlo, andremo subito a comprare qualcosa al negozietto. Ma intanto... Scendiamo al piano di sotto. Ciao mamma! Sono proprio io, tuo figlio, Paolo. Sei contenta di vedermi? Ah, è vero che c'era quello stupido scoiattolo. Con quale tasto si tirano i calci? Scusate, no. Chiedo per un amico. Eh? La mamma è bionda? La mamma non è mai stata bionda. Ah, è bionda perché io ho scelto il personaggio biondo all'inizio. Così ha perfettamente senso. Me l'ho dimenticato. Oh, ma ti sei già messo l'uniforme, Paolo? D'altronde oggi è il tuo primo giorno nella nuova scuola, vero? Pensa che io non sto più nella pelle. Finalmente ti levi dal turbo cazzo. Ok, basta, la smetto. Mi sa che ho fatto le stesse identiche battute quando ho giocato a Scarlato qualche mese fa. Quindi smettiamola. Vabbè, fratemo ti toccherà aspettare. Pare che non sia ancora arrivata una cosa importantissima per le nuove matricole come te. Tin don. Ah, deve essere quello che aspettavamo. Va un po' a vedere, Paolo. Ah, sì. È il pacco del professor Clavel. Mamma, mi raccomando, usa le protezioni che non lo voglio, fratellino, ok? Squavet, stai zitto, ti caccio in forno. Ma allora, a parte che no, c'è chi te l'ha aperta la porta? Scusa, eh. Signor Presidio, le sembra? Non me ne ho neanche mai reso conto. Oh, mi faccio indovinare. Lei è il nuovo allievo Paolo. Dico bene? Sì, sono proprio io, Paolo. Le chiedo scusa per il ritardo. So che non vedo l'ora di immatricolarsi nella nostra accademia. Ma ah, che sbatato, non mi sono ancora presentato. Io sono Clavel, il preside dell'accademia UV. Che sì, sinceramente sta meglio con la giacchetta viola che con quella arancione. Devo abituarmici, ma sta molto meglio. Oh, signor Presidio, non c'era bisogno di venire di persona. Sono responsabile dell'intera accademia. E ciò significa che devo farmi carico di ogni errore e parlare per i prossimi 15 minuti. Cosa c'era in quel sacchetto? In effetti, cioè, poi mamma non ci dà mai niente. Ci dà un panino. Non credo che... Eh? Perché gli ha dato un sacchetto? Se io la divisa ce l'ho già. Perché ha dato mamma un sacch... Si metti testi veloci appena posto, raga. Ah, è un pack... Sono i documenti di adozione o le protezioni per fare il sespo dopo. Vabbè. Bla bla bla, bla bla bla, non si scomodi. Paola, la mamma ha un paio di cose da discutere con il preside. Tu vai in camera tua e stai zitto. Grazie. Ma do Leighton, non vedo l'ora che esca il nuovo Leighton. Ciao, Gami! Allora, punto primo all'ordine del giorno. Velocità testo? Molto veloce. Dai soprannomi? Sì, ma sti cazzi. Salta i filmati? No. E il resto va tutto bene. No, non posso ancora cambiare i vestiti, purtroppo. Poi ci arriviamo alle Chonk con molta calma, con molta calma. Vuoi prendere lo zaino e prendi... Allora, se potessi deciderlo io, quello zaino e quel cappello non li prenderei su. Però mi sa che sono costretto a farlo, quindi chiappiamoli su e vediamo quanto schifo facciamo. Marò. Marò che schifezza, Fra. Non sentirti fregnetto perché, cioè, non lo sei. Sembra l'uniforme che sono stato costretto ad indossare quell'anno in Irlanda. Marò che bruttura. Lagga un pochino, è il gioco, Fra. Oppure la tua connessione. Non posso farlo. Mamma mia, non c'entrano niente sti colori. Cioè, c'entrano ma sono otto colori. No, non va bene. Non sei ancora pronto per la scuola. Ma lascia che sia io a deciderlo se lo sono o meno. Che cazzo vuoi, gioco? Oh, ora sì che sei pronto per il tuo primo giorno. Concordo. Un aspetto distinto degno di un... Fra, sono un cesso. Ah, ma che sbadato. Oggi non è giornata. Quasi dimenticavo di darle la cosa più importante. Un gigascappellotto. Ok, bravo figliolo. Ora vattere. Scusate, mi fa ridere la scena. Tuttavia, temo di non potergli la consegnare qui. Seguitemi. Andiamo un attimo fuori. Ok. Va bene. Ah, chissà di che si tratta, eh. Usciamo, dai. Ha preparato il ring. Ora ci facciamo a botte. Grazie, Gian, per la sabre calata ad Alex. Un bacione. Thank you. Ma do che male che mi sono fatto alle mani tirandomi quello schiaffo da solo. Ma ro... C'ho tutto malissimo ai palmi. Ma... Che dolor. Che dolore. Eh? Venite fuori, miei cari Pokémon. Avevi in mano una sola ball comunque, ma vabbè. Il regolamento vuole che tutti i nuovi studenti ricevano un Pokémon. E ora è arrivato il suo momento. Scelga dunque quale tra questi tre Pokémon vorrebbe avere come compagno. Ma in realtà io vorrei un Lechonk, se posso. E poi scusate, non dovevo scegliere in fondo. O sceglievo già qua? Sono tutti e tre Pokémon davvero affettosi. Non si separano mai da me. Hello. Quel fottutissimo coso, guarda. È bellissimo. Io sono in quella casa laggiù. Ci pensi bene. Quando ha fatto la sua scelta, venga riferimolo. Ok, bella, fra. Mi piace Fucocco perché ha letteralmente zero neuroni funzionanti. Cioè, guarda la sua faccia. Quella è la faccia di una persona che l'ultimo pensiero l'ha fatto quantomeno dieci anni fa. E il prossimo lo farà tra altri sei anni. Ah, prima che tu vada, Paolo. Tieni. Eccoti un piccolo regalo per festeggiare il tuo primo giorno. Portalo con te quando vai in giro, d'accordo? Un panino. Ah, no, è lo Smart Rotom, scusa. Pensavo fosse il panino. Grazie, mamma, per il cellulare. In effetti è utile. Vado a un tatuaggio. In realtà un tatuaggio me lo devo fare. No. Oh, sì, posso cambiargli lo stile dell'uniforme immediatamente. Please. Allora, quella estiva fa cacare. Quella autunnale con la giacchetta è ancora peggio. Quella invernale è un po' too much. Anche se è l'unica che ha senso con i colori. Fanno tutte cagare, eh. Sono d'accordo, però... Vai di invernale. Mi piace. Calzini. Perché ho dei calzini grigi? Te prego. Scarpe sportive bianche? Torna, ti prego, con quelle dell'Accademia. Mamma mia che robaccia. Zaino di tela beige. Te prego. Al mercato le ha prese, mamma. No cappellino, rimuovi. Grazie. No, Paolo, con gli occhiali non ti posso vedere. Togliteli subito. Togliteli. Togliteli. Ah, figata. Posso farlo in-game questo? Beh, è bello. Allora, non sarà bellissimo da vedere, ma è la cosa meno peggio per ora. Dai, tutti quanti a casa del signor presidio. Via. Che gioco è questo? È Call of Duty 4. No, dai, non potete dirmi che sono un maranza con quelle scarpe. Non sono dell'esqualo. No, non posso essere un maranza. Eh! Credo che i trade si sblocchino appena sei libero di... Dopo aver incontrato Miraydon. Questa c'ha soldi, altro che balli. Noi abbiamo la casetta laggiù che... Oh, brutta non è, eh. Però non è neanche questa gigantesca casa con questo gigantesco giardino. Papà di Nemi c'ha i soldi, o la mamma di Nemi qua. È la preferita del signor presidio per un motivo. Perché la famiglia gli dà un sacco di soldi. Che maledetto. Stupido fuococo. Hello. I'm stupid. Sei tu l'allenatore di questi tre Pokémon? Beh, teoricamente di uno dei tre. Ancora non ho comunicato quale, però teoricamente di uno dei tre. Anche se sappiamo tutti quanti che fine farà. Verrà cacciato nell'iperuraneo il bastardo. Mi chiedo quale sarà il suo primo Pokémon. E indovina quale. Indovina quale. Beh, ciao. Sei nuovo di queste parti? È arrivato più in fretta di quanto pensassi? Bene. Complimenti, signor Paolo. Signor presidio, ma... Quindi questo ragazzo è... Esatto. Lui è Paolo. Un nuovo studente dell'Accademia. Ciao, Paolo. Allora, ci avevo azzeccato. Ti sei appena trasferito vicino a casa mia, vero? Stratopico. Non vedevo l'ora di conoscerti di persona. Piacere, allora. Io sono Nemi. Di solito sto al dormitorio, ma siamo comunque vicini di casa. Ti va di diventare amici? Se le rispondo no, questa qua si offende. Quindi devo anche dirle di sì che è palle. Bravo, così si fa. Sento già che saremo amici per la pelle. Yahoo! Nemi è la rappresentante degli studenti. Nonché una bellissima relatrice di rango campione. Nonché nerd. Io vado matta per le lotte Pokémon. Anzi, ho un'idea. Facciamone una subito. Frate, io non ho neanche un Pokémon. Che cazzo vuoi? Calmati. Bla 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 bla. Ecco, il fatto che Nemi sia nella mia stessa classe, secondo me, non ha senso. Cioè, come fa a essere una studentessa già conclamata, già rappresentante degli studenti e allo stesso tempo cominciare dalla prima? Non ha senso. Al massimo, se fossi qualche anno più grande, dovessi essere la mia tutor, avrei capito. Ma così non ha proprio senso. Signor Clavel, la prego, non mi faccia scegliere quale di questi tre Pokémon voglio portarmi dietro nell'avventura. Perché la risposta è nessuno. Non voglio nessuno dei tre. Arrivederci! Alla prossima... Se me ne andassi di qua, invece? Fin dove posso arrivare? Dentro la fontana! Fra, ma... Dentro la fontana mi fa andare. Aspetta. Ma io di base nella fontana ci posso andare? Sì, ok. Voglio vedere se riesco in qualche modo ad andare dove non dovrei. Perché la cosa mi farebbe decisamente ridere. No. Purtroppo l'area di competenza è minuscola. Eh, come non detto. Vabbè. Tanto il Pokémon che scegliamo non ha senso, no? Quindi vai con Gonfu e Coco, che è il più stupido. Ciao, surmacchio! Grazie per il sedicesimo uomo. Un bacione. Thank you. Ah, ne approfitto. Il video per domenica l'ho caricato oggi. Perdonami, ma... Weekend lungo. Vabbè, comunque sei tornato da Napoli, quindi non avresti comunque fatto in tempo. Spero tu stia... Spero ti abbia passato una buona... Un buon weekendino. Con Fu e Coco ho la vita più facile. Ma, regà, tanto questo qua finisce nel box. Quindi chi se ne frega di chi prendo? Dai, prendi quello che ha la faccia più stupido. Prendi su Fu e Coco. Fuego! 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 Boom, boom, boom. Chica boom. Vuoi dare un soprannome a Fu e Coco? Nope. Non mi interessa. Ma come fa a stare su? Non si può appigliare come un gatto. Ma non è vero che sta lì così. Guardandolo pesa 47 kg. Ti lo spezza al braccio fra... Non ha senso questa cosa. Non ha il minimo senso. Sembra proprio che Fu e Coco si sia affezionato a lei, caro mio ragazzo. Sì, però... Cioè, io voglio iniziare a fare altre cose. Ti prego. E grazie Ale per il settimo. Un bacione, bentornato. Non ci posso credere, Paolo. Quindi... Hai scelto Fu e Coco, eh? Incredibile! La scelta perfetta! State super bene insieme. In realtà... Cioè, se posso permettermi... Io che ho la divisa viola e i capelli rosa. Lui di colore rosso. Insomma, cozziamo un po', eh? A livello cromatico. Comunque. Ah, pesa poco meno di 10 chili? Ok, allora ci può stare. Cioè, è tosta tenerlo su così, però ci può stare. Paolo ha scelto Fu e Coco, quindi io sceglierò lui. Vedrai, spiegatito. Ci divertiremo un mondo, io e te. E vai, che culo. Sto con Nemi. Yahoo! Ora che abbiamo entrambi scelto un Pokémon, non ci resta che lottare. Ma io in realtà voglio andare a prendermi il mio Lechonk. Che palle, mi sta aspettando su Scarlatto. Bla 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 bla. Addio, Clavel. No, ancora non posso scambiare niente. Vediamo. Io credo che lo scambio lo potremo fare tra non moltissimo. Cioè, teoricamente... O meglio, credo. Teoricamente dopo la sfida con Nemi ci possiamo lanciare ad esplorare tutto il mondo. Più o meno tutto il mondo. Vabbè, vediamo. L'unica cosa pallosa di questa parte di live, che sto arrivando, frate, è che dovremo fare un sacco di storie inutili dentro la scuola. Con un Pokémon al proprio fianco tutti possono essere allenatori. E si sa, il compito di tutti gli allenatori è quello di lottare assieme ai propri Pokémon in modo da farli diventare sempre più forti. Fra... Ci avrò un Lechonk... Stereo di... Non so parlare, vaffaculo. Combattiamo. Professo, hai rotto i coglioni. Muoviti, muoviti, muoviti. Stai, silenzio. Paolo, spero che sarà una lotta fruttuosa. Ma non frega niente, in realtà, ma va bene. Il tutorial, regà, è quello che dura tanto, perché poi, una volta arrivati all'accademia, c'hai tipo un'ora e mezza di... Semplicemente dialoghi. Per farti... Per liberare... Per sbloccarti tutto quanto il mondo. Poi, da lì, poi possiamo muoverci come vogliamo. Ma fino a quel momento sarà una rotta di balle. Ora, se tutto va come deve andare, questa sarà l'unica battaglia che dovremo fare con un Pokémon diverso dalle Chonk. Ma siamo costretti a farla con un fococo, quindi purtroppo va così. Quindi vai col bracere numero uno. Sbrigatito già a metà vita. Adesso facciamo il numero due e ci muore anche. Penso di sì, Skyter, ma non ne sono sicuro. Grazie per avermi sculettato in faccia. La cosa non mi interessa minimamente. Ti brucio. Grazie mille, Sbrigatito. Molto gentile. Non è mica da tutti vincere la prima lotta. Bravo, davvero ben fatto. Hai la stoffa per diventare tostissimo. Togo, Fra, sto per diventare tostissimo. Togo. Nemi, ti prego, fammi andare a prendere il mio lecion, che hai cagato il cazzo. Sono le otto. Eh, dai. Grande, Nemi, non vedo l'ora di lottare di nuovo con te. Non accadrà affatto. Altre 47 volte durante il gameplay. Non accadrà aff... 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 Paolo, visto che sei le prime armi con i Pokémon, ti do una dritta. C'è un'app che ti sarà utilissima. Dammi subito il tuo smartphone che te la installo. Tinder. Cosa? Aff... Aff... Quando ero giovane io dovevamo ricorrere alle nostre... Blah, 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 blah. Signor Presidio vuole che la porti in ospedale. Mi sa che sta avendo un ictus. No, no, no. Non è una transizione per la storia del Catfish. Mai, mai, figuriamoci. Mai raccontato me la racconterò. Spero che vi impegnerete al massimo per completare il Pokédex. Ok. Mi impegnerò sicuramente tantissimo. Catturerò ben un Pokémon. Le Chonk. E neanche lo catturerò. Lo terrò con lo scambio. Ciao, signor Presidio. Alla prossima. È stato un piacere. Brunetto, perdonami, ma va fatto per una questione di Twitch che se non timeout o persone che scrivono nomi di siti per adulti si incazza con me. No, non l'ho mai catturato un Pokémon selvatico, ma non mi interessa neanche che tu mi faccia vedere come si fa. NEMI! Qualcuno dia un po' di chetamina a quella donna che si dà una calmata figa. Datele un po' di chetamina a NEMI perché se no non le sto dietro. Non anche in questo gioco. Ti prego. Ah, mo' c'è la scena del panino, vero? Eh, mi sa di sì. Mio Dio. Sì, mi sta accompagnando a scuola, vero? Fighissimo. Ho già un'amica. Che bello, mi raccomando. Sì, userò le protezioni, mamma. Tranquilla. Grazie, Goku, sai, per la Sub World Prime. Un bacione. Thank you. Panino. Grazie per il panino. Ciao, mamma. Grazie per il sandwich. Ora, mi raccomando, vai a casa e farti... Io non so, parla. Basta, ci rinuncio. Ci rimetto, ma che cazzo? NEMI. Arriverà il giorno che qualcuno a bordo di un ciclisarti investirà. E quello sarà il giorno in cui farò il ballo del godo. Proprio... Ruperò una pagina dal libro di Aremblese. Farò il ballo del godo perché ne ho assolutamente bisogno. Muoviti. Quanto farebbe ridere se ora lo trovassi qui, in Le Chong Shiny? Farebbe ridere un sacco. No, non ne sono sicuro per niente. Eccoti, Paolo. Qui comincia il sentiero di Dosilla. Interessante. Bellissimo. Da qui comincerà la... Non so parlare. Ecco, tieni questa Poké Ball. So che non la userai in questo gameplay, ma io te la devo dare allo stesso perché il gioco prevede che io te la dia. Grazie, NEMI. Molto gentile, eh. Ora, ti puoi levare dal cazzo, gentilmente? Hong Kong. Ma io devo proprio catturarlo? Posso anche ucciderlo, sto Le Chong? Perché, cioè, sinceramente non è che abbia proprio voglia di stare qui a catturare un Pokémon che non mi serve, perché il mio Le Chong ce l'ho già. Hai visto, NEMI? Sono stato proprio bravissimo, eh. Proprio come pensavo. Fogoko cresce... Ma tu mi hai detto di catturarlo. Ma, cioè... NEMI maledetta. In ogni caso, il trucco è semplice. Indebolisci il Pokémon e poi lancia una Pokémon. Facile, no? Ricordatelo sempre. Grazie mille! Non lo farò neanche una volta in questo gameplay, anche se probabilmente andrò in crisi, perché... Non ho valutato il fatto che dovrò battere la Lega Pokémon con un solo Le Chong. Sarà... Sarà tosta. Quanto farebbe ridere se un Le Chong Shiny lo trovassi qui adesso? No, perché... Io ho bestemmiato per trovarlo qualche mese fa. Però no, non ce ne sono, vero? Non ce ne sono, non ne vedo. Perfetto. Ancora non posso scambiarli. E grazie, Ander, per il quarto. Un bacione. Thank you. Comunque sì. Le Chong, sappiate che teoricamente si potrà evolvere, ma io non intendo farle evolvere. Rimarrà proprio le Chong, le Chong tutto il tempo. No, che sbatta ora davvero... Ora devo davvero farmi tutto quanto il pezzo fino a me sa cosa, no? Secondo me si sblocca dopo il faro, comunque. Prima del faro mi sa che non posso scambiare nessuno, ma dopo il faro suppongo di sì. Non l'ho controllato, in effetti. Ciao, Diga! Mi sa tanto che gli darò una pietra stante. Ve lo dico, così non devo stare lì a impazzire. Anche se sarebbe più comoda le violite, ma... Cioè, piuttosto gliela do una volta che devo fare le battaglie, le violite. E grazie a Lukios per il sesto. Sera, Diga, eccomi arrivato con il mio sesto visito di abbonamento. Il giorno del mio compleanno. Allora auguri un bacione, auguri, thank you. Allora, Paolo, come va con le catture? Vediamo un po' cosa hai preso. Niente, uno spavento gigantesco. Ecco cosa ho preso, vaffanculo. Ma che... che cazzo è stato? E grazie, Yustin... Yustinuzzu, grazie per il bravo, un bacione. Oh! Ah, non ho mai sentito questo verso. Potrebbe trattarsi di un Pokémon forte. Forza, Paolo! Proviamo a scoprire da dove proveniva. E chissà da dove proveniva. Forse da quella ringhiera rotta. Bah, chi lo sa. Ma il rumore è... proviene da qua giù. Andiamo a vedere proprio in maniera pericolosa e attaccata al bordo. Stupido. Ah? Haound! Dur dur! Porca miseria. CINNI DI MERDA! È bolognese, eh, Mirayton. È bolognese, ve lo giuro. Grazie, telefono, per avermi salvato. Molto gentile. Hon hon. Sì, andrò. Ho comprato apposta per non dover cancellare i miei dati. Ciao, frat, tutto a posto? Che succe. C'ho fame, il piccolo. Questo misterioso Pokémon sembra aver perso le forze. Perché non provi a dargli qualcosa per rimetterlo in sesto? Due scappellotti! Due scappellotti! Ti, nemico, la vuoi una guida avventura? No. Lo vuoi un telefono? No. Vabbè, ti do il panino. Io ci ho provato a darti altro, ma non posso. Ti do fuococo! Che gli tira un gagnone e muore. La cosa mi fa abbastanza ridere. E grazie, Mar, per il ventesimo. Sì. Anche a lei, buon uomo. Un bacione. Thank you. Miam, miam. Chomp, chomp. Che poi, in effetti, perché c'è un Pokémon robotico? Dovrebbe aver bisogno di un panino. È un robot? Vabbè. Il buco. Il buco. Il buco. Il buco. Il buco. Il buco. È stato richiamato dal buco. Il buco. Il buco. Il buco. Ah, è vero che mo' il panino gli dà i superpoteri a sto pirletta. Diventa super tosto. 3, 2, 1. Mi Raidon. Dice Volve. Metal Garurumon. Ah no, scusate, ho sbagliato serie. Sì, posso dire che tutte queste scene sono molto più belle da vedere con il passato Sauro, piuttosto che con questo robo. Cioè, Coraydon è molto più sensato per la storia, secondo me. Sembra la forma di un pene. Appunto. Stavo per dirlo anch'io, Siumete. L'ho detto anch'io. Sembra proprio un pipotto. Il panino della mamma è più forte del panino con l'erba magica, eh. Perché anche la mamma ce l'ha messa l'erba magica. O forse ci ha messo anche la polvere magica. Che no, non è il glutammato di monosodio, bensì è la... Famosa canzone in spagnolo degli anni Ottanta. Parà a bailar la bamba se necessita. E fammi andare a prendere le tue robe. Ehi, Paolo! Ciao, Nemi. Come stai lassù? Tutto bene? Paolo, sei ancora tutto intero? Sì, purtroppo. Tutto ok? Alla grande, fratemo. Cerca di venire fin quassù, almeno avvicinati un po'. Arrivo, arrivo, frate, arrivo. Cacapalle. Oh, guarda che lì c'è un oggetto. Aspetta, mo'. Ah, una Pokéball. Molto inutile. Fra, puoi rompere il sasso? Grazie mille, scusa, eh, che eri in mezzo alle balle. Avevo bisogno di te. Wow, che bello. Sembra forte quanti miei Pokémon, forse anche di più. Bah, dubito fortemente, Fra. Posso andare a prendere quella palla dietro gli Angus? Ma gli Angus se lo sfido... Ah, effettivamente parto la battaglia, ok. Sì, le caramelle esperienza barra le caramelle rare, penso che le userò per darmi una mano a velocizzare, se no, che palle. Comunque preparatevi, perché mi sa che ci sarà un sacco di stalling e rotture di cazzo. Cioè, conoscendomi e conoscendo il tipo di challenge che sto per fare, sì. Ciao, Lisa! Oh, guarda che c'è un oggetto laggiù. Teoricamente il cap di obbedienza non conta perché i Pokémon continuano ad obbedirti purché tu li abbia ottenuti prima del livello richiesto o qualcosa del genere. Quindi funziona. Sono un po' stancho e un po' svampito. Però sì, tutto bene. Sì, tutto bene. Grazie, fra. Scacco mattori, ma non ci sono insetti nelle fragole. Non dichiarate quanto meno. Ok. Oh sì, è partita la sfida del secolo. Fue Coco contro Aundum. Aspetta, aspetta, aspetta che ti faccio fuori. Ma come? Non mi posso neanche scegliere la mossa, ma allora? Sono già morto. È già finita la battaglia. Regà, fine gameplay. È stato bello. Paolo è morto. Eh, ciao e mamma, buonasera, come stai? Dove sei mo' nel mondo? Menalo, 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 menalo. Potte, sangue, violenza, leale, violenza, leale, violenza, leale, potte, sangue, viol... No, eh? Turbo Pussy che decide di scappare, che non sei altro, mamma mia. Che, che poveraccio. E tu prendi le a calci, quei cagnetti, che tanto non ti fa niente. Vabbè, no, doveva intervenire grazie ai suoi 15 FPS, come non detto. Io, Miraidon, dall'alto del mio strabiliante potere che mi permette di rallentare e di diminuire il numero di frame del gioco. Eccomi, guardami qua. Ho salvato Paolo. Guarda com'è tronfio, tutto... Sono fico. Sì. Comunque, Rolisa, non mi sono ancora ripreso dalla vacanza. Ho bisogno di una vacanza per riprendermi dalla vacanza. Wow, che succede? Tutto a posto. Sì, tutto a posto. Non ti preoccupare, fra... Tutto benissimo. Certo che ti sei fatto valere in quella lotta. Fra, io non ho fatto letteralmente niente. Non ho neanche potuto selezionare la mossa che ero già morto. Già morto. Tu e questo misterioso Pokémon vi siete appena incontrati, eppure avete lottato contro quell'Houndoom con gran sintonia. Fichissimo. Come? Stai dicendo che non ha lottato per conto suo? Eh, non ho capito cosa sto dicendo. Ah, guarda, si è già rimesso in forza, e meno male. Secondo te è stato lui a emettere il verso misterioso di prima? Ah, stupida Nemi, ovvio che ero io. Wow, più lo guardo e più lo trovo intrigante. Quando sarà diventato un Pokémon tuo, promettimi che mi permetterai di lottarci contro. No, io non te lo permetterò. Che cazzo vuoi? Scambiamoci i numeri... No, la mamma ha detto che non devo dare il numero di telefono agli sconosciuti. Eh, niente, troppo tardi. Grazie, Tiziano, per l'undicesimo bacione. E tira che è questa. Grazie, bravo. Uh, comete. Non penso mi serva comete. Pensaci bene prima di utilizzare comete. Le MT possono essere usate una volta sola. Beh, ora è meglio se ci riposiamo un po'. Ce la siamo vista brutta poco fa. Saliamo in cima al fare e facciamo una bella pausa. Sei d'accordo? Fra, ma io mi metterei anche qua a dormire proprio. Possiamo pezzare giù una brandina? Please. Ma no, ma figurati, Ugolini. Come faccio in una sola live? Sono tre ore soltanto la parte iniziale di... Di dialoghi. Più tutti i dialoghi che arrivano poi, figurati. Ehi, tu, che ci fai qui, eh? Guarda che faccia da scemo che c'ho Amiraiton. E voi due cosa state combinando? Aspetta, ma io ti conosco. Ti ho visto lezioni di letteratura. Ti chiami Pepe, giusto? Sei il figlio del professor Pokémon, il professor Turum. Non vedo che c'enti di mio papà adesso, eh? Stronza. Scusa. Piuttosto, che diamine ci fa qui questo Pokémon? E perché questa strana forma? L'ho trovato ai piedi della scogliera. Fra, era caduto, era inciampato. Qualcuno l'aveva gettato giù come se fosse spazzatura. Coglione, non puoi entrare nel laboratorio. È chiusa a chiave, sai. Tu sei una faccia nuova, ma giudicare dall'uniforme direi che sei anche tu uno studento dell'Accademia UVU. Miraiton non è un Pokémon che si lascia ammanciare da un allenatore qualunque. È un Pokémon speciale. Anche la mia mamma dice che sono speciale, quindi sono anch'io un essere umano leggendario. È quello che mi stai dicendo, Pepe, fichissimo. Speciale, cioè? Bah, se hai intenzioni di prenderti cura di Miraiton, allora mi tocca assicurarmi che tu ne sei all'altezza. Ci stai? Sì, però in realtà... No, io voglio il mio lecion, che avete rotto le balle con tutte queste battaglie iniziali. Che due coglioni! Quanti Pokémon c'hai, Pepe? Vero che ne hai soltanto uno ed è uno Squawet stupidissimo? Ma soprattutto, se perdo me lo dai lo stesso il Miraiton oppure no? Vabbè, ha soltanto uno Squawet al 5 e glielo faccio fuori facile. Spero. Sì, sì, ce lo faccio. Una scottaturina, una bruciatura lieve lieve contro Squawet. No, eh? Eh, figuriamoci. Vai, Fuecoco! Usa azione! Bravissimo! Grande! Questa è stata la tua ultima battaglia, stronzo. Non sei un primalaccio, sai? Grazie. Sei un bello metto anche tu, Pepe. Eh? Se vuoi, a te il numero lo do è come. Ben fatto, Paolo. Grazie. Era soltanto uno stupido scogliattolo a livello 5. Non è che ci sia da esaltarsi. Comunque. Se proprio intenzioni di prenderti cura di Miraidon, tieni. Ti servirà. È la Pokéball che ti serve per contenere quel Pokémon. E vai, la Pokéball di Miraidon. Fichissimo! Ma si può sapere dove hai trovato uno strumento del genere? No. Beh, io la Pokéball... Aspetta, aspetta. Beh, io la Pokéball l'ho mollata e con questo me ne lavo le mani. In bocca al lupo. Shagaro, l'ho appena abbandonato per una piazzola dell'autostrada. Poverino. E vai, ho un nuovo Pokémon. Bellissimo. La prossima volta che lo vedo lo sfida una lotta, quello lì. E vedrai che mi dovrà rispondere. Secondo me, invece, scapperà e basta, Nemi. Certo che potevi nascondere questo piccolo passaggetto dietro a una cazzina e basta. Senza farmi fare tre passi per salire, ma tant'è. Mi sto sempre chiesto così. L'attacco azione si chiama così, per un errore di traduzione è voluto. Penso sia voluto perché tipo alcune cose come contatore hanno cambiato il nome. Oppure Libra ha cambiato il nome in botta. Quindi credo ci ha voluto. Guarda, laggiù si vede Mesapoli. Wow. Che bella Barcellionia. Che bella la Catalogna. Mi sono sburato la bandalogna a guardarla. In inglese è zacco. Quindi sì, è più placcaggio, azione, attacco. Sì, poi è un po' lame. Sarà uno spasso studiare insieme a te, Paolo. Studiare. Studiare non è il mio forte, Fra. Non fare così. Su, prendila come un'occasione per imparare di più sulle lotte Pokémon. Non me ne frega un cazzo. Che cazzo? Enrico. Chi è Enrico? Scusami, Nemi. Non ti stavo ascoltando. Ho spento un attimo il cervello, eh. Ci vediamo a Mesapoli. Non cagare il cazzo, mi raccomando. Spingi. Tirale un calcio ora. Un calcio sulla schiena che cade giù. Veloce. Fallo ora, Paolo. E invece no. Tanto buonasera a quelli che stanno arrivando ora. Grazie, Alpi, per il 42esimo. Un bacione. Bentornata, cara. Bentornata. Thank you. Giga quelligioni in shot per te. Ora che sono nell'area 1 sud, posso scambiare i miei Pokémon? Non posso scambiare i miei Pokémon. Forse sono tanto al centro Pokémon, perché lì mi sblocca l'attività online. Può essere. Madonna, non mi posso neanche muovere a bordo del Pokémon. Mamma mia, che lentezza. Che lentezzitudine. Pooper whooper, salve. No, che palle. Dannato Pooper. Ehi, Paolo. Da questa parte arrivo. Ciao, Nemi. Come stiamo? Questa struttura è un centro Pokémon. Qui possono darti una mano per tutto ciò che riguarda i Pokémon. Anche scambiarli con altra gente. No, perché mi servirebbe. Benvenuti al centro Pokémon. Non me ne frega un cazzo. Lavorate letteralmente in una stazione di benzina. Questa è l'autogrill del mondo Pokémon. Per favore, so come funziona l'autogrill. Entri, pisci rigorosamente fuori dal vaso e via. Ok, grazie mille. Molto gentile. Alla prossima, Nemi. Addios. Ok, ora posso effettivamente scambiare i Pokémon. Sì, posso scambiare i Pokémon. Poképortale. Ok. Ok. Teoricamente ora posso, no? Se mi si connette. Con calma, eh. Avete fretta voi? Io no. Ok, ci siamo. Giusto... Non mi... No, lo so che... Giusto per sapere, per il meme, Posso fare un Wonder Trade? Ah, no. Ragazzi, come non detto, devo per forza catturare un Pokémon. Che rottura di cojones. Pensavo di poterlo non fare. E invece mi tocca. Che possiamo prendere da scambiare in giro? Il Pokémon più inutile che ci sia al mondo. Ok. Allora, sai da che bellino e si merita tutto. Dammi Ralz. A caso. Evviva! Un Pokémon catturato! Wow! Allora. Con calma. A parte che Ralz va preso e piazzato. In secondo luogo. Così. Giusto per il meme. Proviamo a scambiare Ralz con un Pokémon completamente randomico e vediamo chi ci viene fuori. È arrivato lo scambio. Allora, sappiate che se mi capita un Pokémon esagerato io me lo tengo da parte. Ciao Ralz! È stato bello averti in squadra! Chi mi mandate in cambio al posto di Ralz? Lo schifo più totale, vero? Un Vespiquen. Vabbè. Fra, vi beccate un Vespiquen voi negli scambi. Fichissimo. Ok. Bene, ora che abbiamo sbloccato gli scambi quello che devo fare è anzitutto salvare al volo dopodiché avviare Pokémon Scarlatto sistemare il tutto e scambiarlo con qualcuno di voi. Quindi, Giovanno Giorgio, se lo vuoi far tu, io volentieri, guarda. Volentierissimo. Ok, allora, Allora Sì, sì, ma intanto ti mando Te lo mando come messaggio privato Eventualmente il codice da mettere per la stanza Allora Ce l'ho una pietra stante da dare al bastardo? No, perché tornerebbe molto comoda Vero? Dove cacchio le trovo, mo, le cose Dove le avete messe? Ma io non mi ricordo più dove vadano tutte ste robe Non sei qua No che non sei qua Sei qua Questa è la sezione cure Pokeball, strumenti lotta, bacche Strumenti vari, eccola Non ce le ho qua Capsula abilità, chi se ne frega Cerotto abilità, anche Chi se ne frega Non ho pietra stante? Non ho una pietra stante Che rottura di balle E vabbè Ce lo teniamo così Perché la pietra stante? È semplicemente perché così non devo absorbirmi ogni volta Il... Si sta evolvendo No, non è vero Si sta evolvendo No, non è vero Comunque non ho neanche le violite Com'è possibile sta cosa? Non ci voglio credere Aspetta, guarda Forse è qua Ce l'ho nei violite E volcondensa, pardon Forse mi conviene dargli l'evolcondensa Piuttosto ci prendiamo la sbatta di annullarla ogni volta Ma l'evolcondensa ha molto più senso, vero? Ha molto più senso Ah, non posso dare nessuno dei miei E comunque, signori Questo Questo è il Lechonk Con cui dovremo andare ad affrontare Tutto quanto Pokémon Violetto È un Lechonk Con natura neutra Vedere Sì, infatti è natura ritrosa Con abilità voracità Il Pokémon non attende di aver perso molti PS Per mangiare la sua bacca Ma io non gli darò una bacca Quindi che schifo Gli posso cambiare l'abilità Allora Punto primo all'ordine del giorno Dagli l'evolcondensa Ok Punto secondo all'ordine del giorno Capsulabilità Ora Aroma Velo Che cazzo fa Aroma Velo Non ha tipo grasso spesso Teoricamente Proteggi tutta la squadra Da certi effetti che Oddio Però Dai a Roma Se guardi sul canale È uscito uno oggi Giusto per dirtelo Fatemi usare l'altra capsula Ah O a Voracità O a questo E niente Piuttosto a Roma Velo Piuttosto che a Voracità Visto che avrà l'evolcondensa Tutto il tempo Non ha senso Se no Vero Eh Non ho una squadra Però forse riguarda lui Nello specifico Vabbè Comunque Luna è in coma Regà Se no Vai di Cerotto Allora Guardatevi un attimo Proviamo Tanto sono cose che non stavo utilizzando Questa Al massimo riavviamo Vedi che ha grasso spesso Grasso spesso Ha bisogno del Cerotto Abilità Di mezzo al danno causato da mosse di tipo fuoco e ghiaccio Per carità Non è perfetta Soprattutto perché è un Pokémon normale Ma cioè Meglio delle altre due Ok Quindi ora salva Anzi Tanto salva in automatico quel Pokémon portale Ok Scambio il link Giovanni Giovanni Giorgio Sto per mandarti la password In In privato Qua su Twitch Porca troia Ho sbagliato No, ok, è giusto così Sì, vai Poi li usiamola anche dopo, eh, la password Non li sta trovando L'ho scritta giusta Sì, te l'ho scritta giusta Non trova neanche a me Molto male Sono offline Sono offline Che stupido Fermo Arrivo No, no, sono scemo io, ero offline Mamma mia, che momento pepega Che momento TRLF Stupido 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 Tu sei online? Caro Giovanni Giorgio No perché te lo chiedo Perché ho fatto io la cavolata Magari non lo sei neanche tu Ci sono ci sono ci sono Sto cercando eh in questo momento Ok Giovanni È lui è lui il nostro uomo Mi sta dando Fase numero uno dello scambio Diamo il nostro lechonk al buon Giovanni Per il suo miau Dopodiché Lui ci dovrà ridare un altro lechonk E noi gli mandiamo Vespiquen Vediamo se ce lo accetta Marò se scappa adesso Se scappa col mio lechonk shiny Io vengo a cercarti Vengo a cercarti Vado ad assumere un investigatore privato E ti faccio causa Ciao lechonk Divertiti da Giovanni Ci rivediamo tra poco In un'altra dimensione Addio maialino rosa Ciao miau come stai? No lo so che ce l'avevo Ma meglio le violita Ha più senso Non puoi averlo chiamato Pipo Ti prego Ah 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 Fucking Pipo Fucking Pipo Vabbè Bene ora Switchiamo Pokémon Chiudi Il povero scarlatto Apri Violetto E andiamo a fare L'altro scambio Con lui Perché non ho usato Pokémon Home È perché ancora Non c'è la compatibilità Quindi questo è l'unico modo Che ho per passarmi I Pokémon Da un titolo all'altro È stupido? Sì Ma è l'unica cosa Che posso effettivamente fare Ok Ora mi devo riconnettere Devo reinserire la stessa password E poi arrivo Tu inizia pure già a cercare Buon uomo Io arrivo in due secondi Scambio il link 6 3 1 4 5 2 5 5 Si ricordi che io sono Paolo Le devo mandare un Vespiquen Ok Tanto ormai non serviva È lui? È lui o non è lui? Certo che è lui È il buon Giovanno Diamogli Vespiquen In cambio lui ci manda indietro Il nostro Lechonk Scambia Scambia Uomo Gentilissimo Grazie mille Guarda Grazie mille Per l'aiuto Ciao Lechonk Mi è rimancato tantissimo Quanto tempo Che non ci vediamo Vero? 12 anni proprio Eccolo qua Grazie uomo Gentilissimo Per l'aiuto Ed ecco qua signori Il nostro protagonista Lechonk Pokémon Porcellino Si nutre esclusivamente Del cibo più pregiato Non ho letto il resto Perché non sono in grado Di leggere così veloce E con questo scambio ultimato Signori Abbiamo ufficialmente Il nostro Pokémon Per il resto Della nostra avventura Da adesso in poi La nostra squadra Sarà composta Unicamente Solo ed unicamente Da quel povero Lechonk Shiny Che idea di merda Che ho avuto Sarà Sarà una mini Se Minchia ho visto Una roba rossa Un dengiare in giro Che in realtà Non è neanche rossa e rosa Pensavo fosse un culo Di Lechonk Invece era un Iglybuff Vabbè Finalmente riuniti Finalmente riuniti Amici per sempre Cazzo Amici per sempre Lechonk Puoi uscire Gentilmente Bro Facciamoci una foto No No Stai fermo Stupido Aspetta che facciamo La miniatura Per il secondo canale Aspetta che figata Ok Lecci Lechonk 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 Lo prendo in controtempo Lechonk 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 Leci Lechonk Dove cazzo è andato Dove Mickey Ma è la scala Ma fan culo Allora Bene Da questo momento in poi Questo Lechonk 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 Sarà l'unico Nostro Compagno di viaggio Con soltanto Questo Lechonk Dovremmo battere Tutti quanti i titani Tutti quanti i capi palestra E tutti quanti i capi Del team star Per poi andare a Per poi andare a battere La lega pokemon Questo qua è il mio obiettivo minimo Poi non so se andrò anche a battere Eventualmente Lechonk Quello che mi interessa È riuscire a terminare Proprio la lega pokemon Quindi tre capitoli principali Con solo E unicamente Questo Lechonk Ci metteremo tanto Suppongo di sì Suppongo che non sarà Un'esperienza breve Soprattutto perché Sarà pieno di battaglie Stallate e quant'altro Ci sarà da divertirsi Impara tossina Non lo so Sinceramente Non mi sono studiato Un moveset Né niente È già tanto Se gli ho dato l'abilità decente Mi sa che andrò a improvvisazione E grazie drago Per il trentottesimo Un bacione Buonasera Come la va? Tutto bene Volevo inaugurare Questi trentotto mesi Con un'iconica frase Sai cosa ci fa un mattone In un centro psichiatrico? È proprio un mattone Fra Forse era meglio Se davvero le evitavo Sì 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 Mi posso curare Vi giuro che mi posso curare Posso fare il bastardo Posso stallare Posso usare strumenti Sì 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 Il mio obiettivo è finirla Con solo le chonk Che però non dovrà mai Essere fatto evolvere Perché la challenge È solo le chonk Non soltanto Evoluzione di le chonk Di cui non ricordo il nome Grazie Ettore Per la sub Un bacione Bello Thank you Ecco Mentre per quello che riguarda Il level cap Non so se metterlo Diciamo che Se arrivo Naturalmente Con il pokemon Iper livellato Sti cazzi Altrimenti cercherò Di portarlo almeno Al livello delle palestre All'inizio non penso Sarà molto necessario Dopo un tot Lo sarà E comunque Cercherò di affrontarle In ordine Per comodità Ok Non so se fermarmi A fare un pochettino Di grinding Adesso all'inizio Oppure Se andare Già avanti E sperare bene Boh Non ho idea Eh sì Forse le violite Mi serviva per Boh Non lo so Forse le violite La potevo anche Tenere da parte Ecco Appena troverò Una pietra stante Magari gliela darò Però per ora Vabbè O in colonie Sì esatto Senza farlo Evolverino in colonie Il lecionc Ha la natura favorevole In realtà Il lecionc In questo momento Ha una natura neutra Quindi è favorevole Eh Non lo so Però siccome Non ho un level cap Autoimposto Anche sti cazzi Vero? Anche sti cazzi Fai rotti i coglioni Non usare doppio team Guarda Camar C'è un pokemon Ispirato da te È tutto grasso Si chiama lecionc Così come io Chiamo te Lecionc Vedi colpocoda ancora? Resisti Lecionc No Ok Scusami lecionc Eh però Pozione Ah che cosa bella La nostra prima pozione Bravo lecionc Fatti curare E no Fatti curare Sembra che debba andare al manicomio Però vabbè Ci abbiamo capito E mi ha incantavoccio Di togli niente Quello è il problema E invece no Gli faccio abbastanza danno Posso dire che ha cagato il cazzo Con sto doppio team Ah vabbè rip Allora Se non ricordo male La gestione dei livelli O meglio Dei pokemon scambiati E la loro ubbidienza È fatta in modo tale Che Mi sembra di aver letto Che l'ubbidienza Dei pokemon Dipenda dal livello A cui ti vengono scambiati Quindi siccome Questo lecionc Mi è stato dato A livello 4 Teoricamente Mi dovrebbe obbedire sempre Se invece Mi fosse stato dato Tipo che ne so A livello 15 Magari non mi avrebbe potuto Obbedire fino a quando Non lo so Non ho ben capito Però teoricamente Mi Mi sa che Da adesso in poi Poi obbedirà sempre Sono morto Allora Vediamo come funziona Traded Pokemon Scarlet And Violet Ok Puoi non far casino Camarra L'hai rotta te Quella scatola L'hai rotta te Ah no Vedi Porca troia E' vero A prescindere dal fatto Che tu il pokemon Lo No ma in realtà Non funziona così Obbedire Ah guarda Bulbapedia No ma in realtà Ok È possibile che smetta di obbedirmi Sopra il level cap della palestra C'è la possibilità che smetta di obbedirmi Però per la prima è il livello 20 Quindi direi che ci stiamo dentro anche abbastanza comodi Per il momento Non abbiamo nulla di cui preoccuparci Quindi sì, teoricamente dovrei dare priorità alle palestre Perché altrimenti diventa un casino Il punto qual è? Che le prime due palestre sono a livello 15-17 Gestibili entrambe Dopodiché la terza è a livello 24 Il che dovrebbe essere anche gestibile Però poi se arrivo alla terza palestra Che non ho fatto tutto il resto Tutto il resto poi diventa una cagata Perché se mi presento con un lecionca a livello 80 A fare, che ne so, cloth A parte che hai due balle girare Con soltanto il pirletta Che va in giro piano Però dovremmo cercare di essere Un attimino più flessibili Da quel punto di vista Vedremo come muoverci Quando live di FIFA Giovedì la prossima Giovedì la prossima Domani ho messo Super Mario 64 E poi venerdì il proseguimento Di Pokémon Violetto Con solo le chonk Ok, dammi un attimo Anzi, dammi un attimo All'allenatore qua Sto boccia di merda Sto stupido pirletta Come si chiama? Ti mi batti Ti spiego una bella cosa Ti spiego Da quale loro fanno i trofi I miei genitori mi hanno preso Non è vero Non ho genitori Mi hanno abbandonato Sono orfana Sì, il Team Star Mi sa che Non dico che aspetterò Ma Il Team Star Cos'è che mi sblocca? Niente No, qualcosa mi sblocca Mi sembra il Team Star Urca Non mi sono curato Ti danno le MT fighe E basta Vabbè, che lame Ti prego resistimi Resistimi le chonk Bravissimo le chonk Che uomo Che uomo E poi magari ci studieremo anche un moveset Diciamo che Per le prime fasi di gioco Il moveset figo non mi serve Quello Teoricamente posso iniziare a studiarvelo un po' meglio Più in là Quando magari le palestre iniziano ad essere complicate Quando magari, che ne so Anche le sfide contro i leader del Team Star Iniziano ad essere complicate Insomma, con Con molta calma Con molta calma Per ora all'inizio non ho bisogno Ok, va bene Io direi che a questo punto forse possiamo far fare un altro paio di livelli Ma giusto uno o due al buon le chonk E poi ci diriamo direttamente Ci diriamo What? Ci dirigiamo direttamente verso Mesapoli Perché per ora non ho molto altro da fare Così poi ci troviamo dalle balle Tutta la storia E da lì possiamo cominciare a muoverci comodamente Comunque in tutto questo posso dirvi una cosa Io Io oggi ho fatto una cosa importante per la mia vita So che è piccola, so che è stupida Ma ho fatto una cosa importante Ho telefonato un'agenzia emibiliare per chiedere informazioni su una casa che sarei stato interessato ad acquistare Quello che mi hanno detto è stato Ah guardi in realtà qualcuno ha Ha già fermato la casa eh Teoricamente Però se dovesse saltare la trattativa è l'avviso Ok grazie Le ho dato il mio numero Speriamo bene Peccato era bella No la casa era una figata Aveva giardino davanti e dietro praticamente Non enorme aveva il giardino Aveva in casa due stanze Zona cucina soggiorno E più in un piano interrato vicino al garage c'era la taverna Che è quella che io avrei usato come studio Ipoteticamente Ma raga era di un bello sta casa Era di un bello Dico perché Non è che voglio è che devo Entro due anni devo andarmene via di qua Perché mi scade il contratto E siccome il proprietario nel frattempo cambierà Perché quello che ho adesso sta vendendo Sicuramente con un uovo non lo rinnoverà il contratto Quindi mi sto muovendo adesso per avere la casa tra due anni Dato che tra l'altro io oggi Sono esattamente quattro anni che sono in Italia Io mi sono trasferito in Italia il 2 maggio del 2019 Dall'Irlanda E comunque sì Cioè il contratto di locazione sta scadendo E non verrà rinnovato E quindi se mi muovo adesso e E ne so sai Inizio a comprare casa Tra un paio d'anni magari è tutto pronto Ci possiamo spostare E grazie Simo per la sub di livello 1 Un bacione Thank you Ma come sei pure innamorato Fratemo Te prego Ok Iglybuff è una palla da battere Quindi anche no Facciamo che da adesso in poi batterò qualcun altro Ti prego Lecionca Attaccalo Bravo Grazie No teoricamente non devo rifare la grande attesa Perché ora ho capito come farlo velocemente Prima non lo sapevo Ora lo so Però sì Oggi ho fatto il mio primo grande passo E in questi giorni farò il prossimo grande passo Cioè Andrò Andrò a chiedere info per la patente Proprio andrò lì di persona E dirò Ah regà Salve Quanti soldi devo darvi Per far sì che voi mi diate la patente Senza che debba dare esami Grazie No non è vero Però Però sì devo farlo Salve messeri Come è andato il punto del primo maggio Insomma ponte in realtà non è stato Però tutto bene Grazie Io sono stato a Firenze Non ricordo Comunque Un paio di anni fa Io sono stato a Firenze Con la mia ragazza Claudia E stavamo guardando una serie di statue Che si trovavano Tipo in un portico Vicino a una piazza Molto importante A un certo punto Ci avviciniamo a una di queste statue E vedo una piazza E vedo che Claudia è lì tutta quanta interessata Che la guarda E vedo che Tipo sembra che stia cercando qualcosa Allora la guardo Guardo la statua Guardo di nuovo Claudia Guardo la statua Guardo il nome della statua Il nome dell'opera era Il ratto delle sabine Allora guardo di nuovo Claudia Che la vedevo sempre più confusa E le faccio Amore Eh dimmi Ti vedo confusa Che succede? No niente Stai cercando il topo Sì sto cercando il topo Amore ratto vuol dire rapimento anche Ah È stata una scena super carina Mi ha fatto ridere un sacco Perché giustamente Chi usa la parola ratto Per definire il rapimento È un termine molto antiquato Molto disueto E poverino Non lo sapevo Mi ha fatto ridere sta scena Stai cercando il topo? Sì Che carina Grazie comunque Steven l'undicesimo Bentornato Spero tu ti sia divertito a Firenze Gran bella città a Firenze Maroc C'era Claudio che cercava il topastro La cosa mi fa ridere Ho detto Claudio E vabbè Ma comunque Chat in tutto questo Io devo decidere Che foto caricare su Instagram Ho tre foto E non so quale delle tre Mettere per prima Perché ne ho una In cui sto bevendo Un drink Tutto rosa Anche se si vede Soltanto il fondo Di suddetto drink Coperto da Una coperta Tutta quanta Pelosona Così Mentre bevo Proprio a mio stile Ne ho una caruccia Davanti all'Ateneo A Bucarest E una Dentro il palazzo del Parlamento A Bucarest Ho una faccia Che sembro Indemoniato Figa La tre Mio signore La tre E che giavoce Che danno fa Un buon danno Ecco Come quelli che parlano Del sacco di Roma Io quando ho scoperto Che non era diventato famoso Nel numero Continuitore di Utah Non ho più avuto certezze Nella vita Frate Non ve lo dire così E grazie Luca Un bacione Thank you Thank you Thank you Oui Ma no Quanto è grosso Sto Hoppip Minchia Fa provincia C'ha il culone Comunque vi faccio vedere La foto C'è la faccia Nella foto Di cui vi parlavo Poco fa Ah cazzo Non ho risposto a mento Aspettate Scusate Ok scusate Cosa cazzo Ah devo far vedere La foto Giusto Perché allora Mentre ero in bagno Prima che iniziasse la live Durante la musichetta Iniziale Ho ascoltato Il suo vocale Ho detto ok Ora mi siedo Alla scrivania E gli rispondo Poi son tornato Ho visto che eravamo A tipo 10 secondi Dall'inizio Quindi mi son Dimenticato di rispondergli Tutto qua Porca troia Questa qua mi fa fuori Ufff Comunque la foto Intanto diamogli una Una pozza Questo le chonk Grazie Grazie Matt Intanto per il Prime Un bacione Thank you Perché allora Voi la foto Dite vabbè Che c'è di male Poi in realtà Zoom Sulla mia faccia E ti rendi conto Che forse Non è la foto Migliore da postare Vero Ma in realtà Mi ha detto Di non scrivergli Allora Non gli ho scritto Perché poi Se no Quelli in cui Rido Però Quelli sto ridendo Effettivamente Non ha molto senso Poi ce ne sarebbe Una bella Se soltanto fossi stato Un pochettino Più piegato Con il gatto Di Bucarest Tant'è bello Che era sto gatto Sta qua la dovevo mettere Se no c'è quella In cui sono molto Amio Amio No? Non lo so Devo capire Prima o poi Magari le metterò tutte Però Per ora no Vabbè Torniamo a noi Ok ora facciamo fuori Sto donato Buizel Forse conviene Attaccare gli Psyduck Sono i pokemon Che mi danno più exp In questo momento Sennò stiamo qua 12 anni Ok ce l'abbiamo Al 9 Ancora un livellino E poi andiamo Dentro Mesapoli Psyduck Ciao fra Hide the pain Harold Ecco come si chiamava Si vedrà Devo decidere Mi farò aiutare Da Claudia Stasera Dovrei Evsare Dite che fa così Tanto la differenza Perché personalmente Anche sti cazzi Se poi mi rendo conto Che davvero Devo farlo Eh mi metto a usare Che vi devo dire Però non credo Che saremo Effettivamente In difficoltà Anzi Se va come Il gameplay originale Credo che la palestra Che mi metterà Più in difficoltà Oltre probabilmente Al titano Di tipo roccia Cioè Il maledetto Cloff Mi potrebbero Mettere in difficoltà 1 La leader Del team star Di tipo lotta E 2 2 Forse Eh mi son cagato In mano Dai la pirletta Come cazzo si chiama Dai la youtuber Regà la youtuber Quella che c'ha La palestra elettro Non mi viene in mente Il nome Grazie Federico Intanto per l'ottavo Un bacione Thank you Chi sarà Giusto Chi sarà Lei Lei mi ha messo In difficoltà Vabbè che facciamo Cominciamo Ad avventurarci Verso mesapoli Visto che siamo Tipo al 9 e mezzo Dai Ma la rapper Secondo me La Dovremmo anche Riuscire a Dovremmo anche Riuscire a Sopportarla La rapper Perché Teoricamente Qualche mossa Buio La impara Le chonk Le mosse Buio Le impara O meglio O in colonne Le imparava Quindi Suppongo Le imparano Anche le chonk Dopo ci studiamo Come non impara Mosse buio Non ci credo Le chonk Le chonk Le chonk impara Allora Colpo di fango Supplica Fossa Botti in testa Sbadiglio Riduttore Cuor di leone Barahonda Sdoppiatore Ok E poi Da TM Impara Riduttore Fangosberla Protezione Furto Incantavoce Apripista Facciata Battiterra Doccia Fredda Colpo di fango Resistenza Giorno di sole Pagia danza Fossa Semitraglia Cozzata Zen Corpo Scontro Sonno Lalia Seme Bomba Riposo Metal Testata Sostituto Granvoce Carineria Altruismo Terascoppio Eh Gli dobbiamo mettere Il terratipo Spettro Mi sa O buio Più Terascoppio Terascoppio Te danno parecchio In là Per il resto Carineria Mi tornerà comoda Facciata È buona Però a quel punto Gli dovrei dare Una Una fiammosfera Per usare Fassade E per il resto Che fai Riposo O anche Il riposo Sono la Lia Facciata È un'opzione Riposo Sono la Lia Facciata Sperando Che becchi Facciata E non Riposo E poi ce la Studiamo per bene Il bastardo Vai che è già Voce No Non far Confusione Fra Che confusione Sarà Perché ti L'amo Ma perché I ricchi E poveri Tra l'altro Volete sapere Una cosa divertente Che divertente In realtà Non è Ho scoperto Ieri Che di Sarà perché ti amo Esiste anche La versione In spagnolo Cantata proprio Voi dai ricchi E poveri Suona anche bene Incredibile Bro ma davvero Ha un PS Dal K.O. Dello Psi Duk Hai un Pokémon Bellissimo Guarda il mio Il mio è più figo Guarda il mio Il mio è più figo È un maiale rosa Stronzo 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 Scusate Cosa è successo Le Chonk Ci si è rimpallato Va bene Povero Pacirisu No Non dovevo fare Ho sbagliato Il mio pintito È bellissimo Lo so In realtà Non sapevo neanch'io Dell'esistenza Di Pacirisu L'ho visto adesso Però figo Il fatto che sia qui Ok Ce l'abbiamo al 10 Somebody told me That you had a girlfriend Who looked like a boyfriend Tutto Tutto Non ricordo il testo Tutto bene Belli Tutto bene Stiamo finalmente per entrare a Mesapoli Mi sa che oggi Se usciamo da Mesapoli Facciamo la prima palestra È un miracolo Come vanno le lotte? Bene Farò tutto a posto Grazie Che fastidio che sia soltanto tutto a sinistra Il Pokémon Lo volevo più al centro Tutto chiaro Bella Frate Alla prossima Tutti dentro Mesapoli Woo È vero che abbiamo la battaglia contro la scema Finora bene Caro Giovanno Ora abbiamo la nostra prima vera sfida contro Nemi Perché finora erano soltanto Pokémon selvatici Più un paio di allenatori scemi Quindi mo Mo siamo davvero in difficoltà Saremo davvero in difficoltà Perché sta qua usa anche la Terrasferamo Far della sfida di Nemi Allenatrice Ok Andiamo mia cara Sapete cosa mi è appena venuto in mente? Che teoricamente Per cercare di gestire al meglio le palestre da adesso in poi Potrei E dico potrei Ehm Tipo Fermarmi a farmare un pochettino di Teraliti Teraliti si chiamano In modo tale da cambiare il Teratipo del Pokémon di volta in volta Non è stupido eh Non è affatto stupido Tra l'altro che culo che abbiamo preso anche il Fuecoco Avendo preso Fuecoco tra l'altro ci siamo salvati un sacco di casino Perché Spregatino diventerà Erba Buio E Le Chonk impara Carineria che è una mossa che gli darò il 100% E quindi sarà debole a Carineria Il che è ottimo contro Nemi Mesturia qual è? Ok Ok intanto Rip Spregatito È stato un piacere E ora chi tocca? Mi sa che manda in campo Pomi vero? Mi sa di sì Quella normale Ok è esattamente a metà però Se l'anticipassimo di un po' Non morirebbe nessuno credo no? Poi si potrebbe fare Esatto no mi è andata bene che ho preso Fuecoco Io in realtà ho preso Fuecoco per il meme Ma in realtà è stata una scelta giusta Intanto Ocho Anemi che Si terastallizza Si teracristallizza Pardon E che palle Perché ci sono delle sillabe di più in italiano Ma anche l'anno scorso Col Gigamax Gigantamax Che fastidio La tipa lotta è l'ultima che dobbiamo fare Prima del Di super 4 infatti Ma lì teoricamente avrò già le cionca all'ottanta Quindi magari riusciamo a salvarci Urca La paralisina non ci voleva Uuuuh Bitch Get shotted Pomi Get shotted Eh ok Grande le cionc E' un muro Figa E' un muro Non lo tira giù nessuno E lui abbatte tutti Non che i muri abbattano cose Però vabbè Benissimo Incredibile Sei riuscito a buttare giù Persino un Pokémon Terra cristallizzato E lo so Il mio maiale rosa E' bellissimo Non temere Ti vedo presto come si fa A usare la terra cristallizzazione Sei così forte con le lotte Che a volte mi dimentico Che sei ancora le prime armi Eh lo so Sono un talento naturale Ma sai cos'altro Ha un talento naturale Che ho laggiù in basso Ed è rosa Le cionc Beh non sono 24 di fila Ma li posso curare Quindi sono 6 alla volta Secondo me con i Pokémon al 100 Si può fare Che era sto casino Ah il portone di Mesapoli Che si apre Maro Ma chi c'è mai uscito Da sto portone Solo la prima volta Perché si è obbligato a farlo Ma poi non lo usa più nessuno Ma infatti sarà tosta La lega Pokémon Mentre la dovremo rifare Tante volte Però anche lì Se gli cambiamo il terratipo Tra una cosa e l'altra Non è scemo A meno che io non possa Mmm Ora che ci penso Forse non posso Cambiare il terratipo Tra una volta e l'altra Posso usare Una terracristallizzazione Alla volta Forse Non lo so Però dobbiamo giustarcelo bene Il terratipo Non posso cambiargielo Ok La lega Pokémon Sarà tosta Ci dobbiamo studiare Per bene il terratipo L'abilità Non l'abilità Quella è Il moveset E quant'altro Però sì Questa è Mesapoli La città più grande Di tutta Paldea Ed è sempre un centro Importante per il commercio E la gente viene qui Da ogni dove Per vedere le ultime scoperte Tecnologiche Acquisire nuove conoscenze Stratopico Fra Posso anche tagliarmi i capelli? Ah yes Uh posso cambiare finalmente Le scarpe E quell'orribile zaino Che mi ritrovo Forse no Forse non ho ancora Abbastanza soldi Per comprare quelli belli Vero? Mmm Il salone di bellezza Voglio andare a vedere Sei uno che ci tiene Al look eh Oh Guarda che merda di divisa Che c'ho L'unica magagna È che ci vuole Tutta una serie Di permessi Per utilizzarla Fra La parola magagna È ufficialmente Nel vocabolario Del mondo Pokémon Questa cosa è meravigliosa Nel frattempo Vatti a fare un giro in città Ok fra Vado a vedere Quel meraviglioso Castello Fatto con Quattro pixel e mezzo Là dietro Dietro di lei Marò Marò quelle torri Sì state zitta Fammi andare Molto gentile A più tardi Bella fratemo Ok posso dire una cosa Che forse mi farà odiare Da tutti quanti Ma Cioè Questo Paolo Io più lo guardo Più mi dà fastidio E sapete perché? Perché quei capelli Non c'entrano un cazzo Con niente Io ho voglia di cambiare Immediatamente Il colore dei capelli Perché quel rosa Mi dà fastidio Non è lo stesso rosa Uh Canta una canzone Canta una canzone Cantami Quella Quella che piace a me Voglio sentire il testo Oh Mesapoli Città dell'istruzione Mia città Mia scuola Mio porto Mio bastione Coglione Anche quello fa rima Con bastione Con educazione Qua vendono gli zaini Vero? Stratopico Fra Fa vedere Questo è il negozio Che si chiamava Borsette Posso vedere lo zaino? Questi sono tremendi Ah C'hanno solo questi qua Benissimo Le scarpette Invece No tu sei quello Per i tagli di capelli Questo è quello Dei cappelli Che non mi interessa Gli occhiali Non mi interessano Il negozio Dei calzini Figata Il negozio Dei calzini Questo è quello Delle scarpe Dai eh Beh Beh Ero entrato Nella porta What the Queste scarpe Sono terribili Queste sono già meglio Potrei prendere Quelle bianche O quelle gialle Che mi richiamano Il gilettino sotto Forse vado con quelle gialle Vado con quelle gialle Vai vai Paga E indossa Oh Così decisamente meglio Con ste scarpette gialle Allora l'unica cosa Che dobbiamo cambiare È il maledetto zaino Ma quello Lo possiamo cambiare Soltanto più avanti Mi sa Va bene Tutti quanti Su per sta scalinata Marò Marò Scusi C'è un ascensore Mi è andata a cagare Bastarde Ciao combi Che abilità Alle chonk Grasso spesso Oh sì È il momento Del team star Ah no Quello era il team skull Scusate Ho sbagliato team Loro erano Quelli di disney channel Eh dai Entra anche tu Nel team star Se lo farai Potrei brillare Come una stella Ehi ma ci senti Non vuoi anche tu Splendere con splendidi Amici come noi Veramente No Andate a cagare Sono il capo io Senti Dobbiamo raggiungere La nostra quota Di nuove reclute Quindi zitta Unisciti a noi Ah Tipo quelli che ti fermano Poi in strada Ti chiedono Ehi ma potresti fare Una firma contro le droghe In quel caso La mia risposta standard è Ma io mica sono contro Quella risposta funziona sempre Li prendi sempre Alla sprovvista Non sanno mai cosa dire Quando rispondi in quel modo Dai aiutiamola va Facciamo gli eroi di sto cazzo E te chi sei? Che vuoi dal team star? Ce l'avete? Due euro Devo andare a prendere il treno Per udine Per favore Non vi sto ascoltando Scusate io sto cliccando A a caso Sto proprio button mashando Non mi interessa Quello che succede Yes Disney channel Il momento Si combatte contro Recluta team star Che manda in campo Shrudel Cos'è? Normale veleno Il bastardo Ok Quindi non posso usare Incantavoce Ma vai Diecheggia voce Basta Tanto è sufficiente Quello Hai qualcosa contro Gli ex carcerati No no Si figuri Voglio bene I miei colleghi Oppure Lì basta No ma ci sono stato Anch'io in carcere Oppure ancora Quando ti Ti si avvicinano Le persone Che ti porgono Le rose Affinché le compri Alle persone Che stanno con te La risposta standard È No grazie Ho già mangiato Ma chi cazzo è questa matricola È straforte Estratopica Fammelo dire È riuscito a batterti Com'è possibile? Non vorrei mica dirvi Che tocca a me Dagli una lezione Oh porca di quella Baffanculo Scusami Fermi fermi Ma che cazzo fate? Stupidi Oh no La rappresentante Degli studenti Ci mancava solo Questa bastarda Mi stupisco di te Paolo Ti lascio per due minuti Da solo E già ti lanci una lotta Lo sai che se vuoi lottare Devi chiamare me È un po' come dire Ehi 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 Lascia stare mio figlio Brutto bastardo Quello posso picchiarlo Soltanto io È la stessa cosa Che? Ah perdonami Mi sapevo che ho Intentato la situazione Fra vabbè comunque Ora che vi guardo meglio Avete proprio l'area Di due sgherri Del team star Cercavate di forzare Altra gente Tenta venirsi a voi Vero? Beh ecco In realtà io Ah lo sapevo Normalmente sarebbe Il mio dovere Di rappresentante Fermare Non so Fa culo Tirate la sfera E fagli il culo Che bello Ora posso Terracristallizzare Il mio lechonk Fichissimo Stratopico Fra Grazie Ma che facciamo Ci terracristallizziamo Giusto per fare i coglioni Vai E che già voce Sono volutamente Senz'anima Come Pululu Pululu aveva anche Gli occhi senza anima Mamma mia Quanto è bello Con la sua coroncina Di diamante Stolle chonk Mamma mia Che uomo Vai di che già voce E aprimilo Iangus Caboia Ciao Manu Ah Manu Mi hai appena ricordato Che devo scrivere Anche a Ai miei amici Per sapere Chi viene a Modena Con me A vederti sul tiro Tra tipo Dieci giorni A cazzo Che scintillio abbagliante Complimenti Paolo Sei un fenomeno Anche con la terracristallizzazione Quando un Pokémon Acquisisce un terratipo Le mosse del tipo Corrispondenti Diventano ancora più Formidabili Sì devo ammettere Che ad oggi Ancora mi confondo Un pochettino La terracristallizzazione Non l'ho mai capita bene Ma spero di studiarmela meglio Per il resto di questa avventura Con solo le chonk Vero Ah 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 Nemis Mascialike Iscriviti al canale Bastard Sì no ma andare vado Sicuramente vado Poi non so chi ci sarà con me Ma sicuramente vado Beh comunque io Mi leverei dal cazzo Astra la vista Disney Channel Anche a te Sì ma infatti Oggi sarà lenta Poi da venerdì Iniziamo a fare sul serio Con questo gioco Ciao fra Sì la situazione Si è risolta Andiamo a scuola Vai Siete pronti Per un'ora e mezza Di magico Divertimento Ah 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 Non vedo l'ora Porca di quella Allora Come intro È decisamente più lunga Qui Però la cosa positiva Di questo gioco È che una volta finita La intro qua Poi puoi fare il cazzo Che ti pare Per il resto del gameplay Tutto il cazzo Che vuoi Mentre di là Ogni dieci secondi Conviterano a fermarti Per dirti Ehi guarda che c'è questo Guarda che c'è quest'altro Guarda qui Guarda qui Guarda qui Qua puoi muoverti Con i tuoi tempi E quindi decidi tu Se puoi Meglio Se vuoi avere a che fare Con la lore Ogni 30 secondi Oppure se volerti Fare i cazzi tuoi E girare più liberamente No? E a volte anche la lore È abbastanza semplice Non hai bisogno Di chissà quanti dialoghi E non per ogni singola stronzata Anzi a volte Se ti avvicini troppo A una zona di interesse Ti arriva la telefonata Ma tu sei poi libero Di girarci lontano E continuare a sfruttare La zona attorno A quella dove poi Effettivamente inizia l'evento Tipo quella con Con i dominanti Con i titani Sia quelli con Vabbè ma anche le palestre Cioè lo trovo molto meglio Questo gioco Sei molto più libero Di girare dove cazzo ti pare Bene ora raga Non so se vi interessa Io non so se vi interessa o meno Ma mi sa tanto che Da adesso in poi Tutti quanti i dialoghi Verranno affrontati così Interessante vero Divertente Wey Sir Presidio Salve Come stiamo Bla 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 Grazie per aver accompagnato Quello studente Si figuri Adesso andiamo a trombare Nella mia stanza Cosa dove Ho detto nella mia stanza Nel dormitorio Ah Allarmante direi Mi raccomando Proteggetevi Oh cosa Il team star Ah tranquilli Vado a picchiarli io Nemi Mi raccomando Usi le protezioni Eh Non rimanga incinta Che è un disastro Se no Questa è il loro ufficiale E' già al massimo Forse Ma che belli gli studenti Con le gambe a 4 fps Mamma mia Che bellini Uno più caruccio Dell'altro Buongiorno Professor Zim Questa invece E' palesemente Una seduta Di alcolisti Anonimi Buongiorno a voi I miei cari studenti Oggi Ho una bella novità Per voi Alcuni studenti Di questa classe Sono sobri Da ben 30 giorni Quindi Per festeggiare Stappiamo Auguri Prosecco per tutti Scusate Che poi non è vero Che le classi Sono così entusiaste Di sentire novità Dai professori Non gliene frega Un cazzo a nessuno E a maggior ragione Non frega niente A nessuno Dell'arrivo Di un nuovo studente Cioè Quando torna arrivava Un nuovo studente Era proprio molto Ciao E poi scappavi piangendo Piacere Io sono Paolo Ciao Paolo Sembra proprio Che gli altri studenti Non vedano l'ora Di conoscerti meglio Paolo Ma io non voglio Conoscere loro Zim Non so se l'hai capito Volete chiedere qualcosa Al vostro nuovo compagno Di classe Allora accetto tutto Tranne che domande Sul mio Ise Per il resto Va bene Io io posso fare Una domanda Dimmi Cosa ti piace fare Con i pokemon Ok ho trovato la nota giusta Con cui dirlo Sesso Scusate Scusate Scontata Lo so ma andava detta Andava detta Coccolarli Coccolarli Tra è l'unica Della regione Che cazzo Di domanda E Quali sono i miei Piani per il futuro Ma in realtà Volevo andare a pranzo Comunque Vedi te Non ho ancora deciso Diventare un allenatore Fortissimo Col mio Lechonk Vero Grazie per averci raccontato Qualcosa di te Paolo A proposito Io sono Zim Insegno biologia E sono referente Di questa classe Ok Non credo che Vorrò mai a parlarti Così come ho fatto Nel gameplay originale Vero Sei un personaggio Abbastanza inutile Zim Sì sì Doveva alzarsi In piedi apposta Per farla In pieno stile Breakfast club No L'attimo fuggente Non breakfast club Che cazzo dico Capitano Mio capitano Ho visto un foglio Volare nelle mani Del tipo Seduto alla cattedra Che cazzo è successo Allora conto Sul tuo aiuto Campionessa Nemi Grazie di aver accettato Di occuparti Della cosa Al posto mio Ah si figuri Me lo tromberò io Il buon Paolo Ah eccolo qui CBCR No fra No scusa Non si dice Non si dice Gita CBCR Regata voi C'è allora Tra voi giovani Si usa ancora Il termine CBCR Perché per me Ripensando C'è un qualcosa Di leggermente creepy L'idea di qualcuno Di 16 17 anni Che guarda un bambino Una bambina Di 10 11 Dice Me Me CBCR Fra Ehm E' cringe E' proprio sbagliato Non si usa più Beh per fortuna Che non si usa più CBCR CBCR Io ho raggiunto Il rango campione Durante la scorsa Ricerca di tesori E perché sei ancora qua Fra Non ti sei rotta il cazzo Perché devi ricominciare Dalla prima Non ha il minimo senso Fra Non ha il minimo senso Il gatto Ehm Ehm E' aggraffiato Ehm Non ci provare Non ci provare Ehm Guarda che Una volta ho fatto Due ore di corso Di autodifesa Ehm Fai attenzione Sono pronto a qualsiasi cosa Ehm Pip 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 Ehm Il gatto Mi ha graffiato Aia Posso fare Nel corezzino Scricci on the head Scricci on the head Sì Buomidi Che cintura sono Non lo so L'ultima cintura Che ho preso E' stata una cintura Da 9 euro Comprata da Tipo Boh Non ricordo In quale negozio Ma l'ho comprata Perché sono uscito Una sera Per andare a cena Con Dani E compagnia bella Però mi ero dimenticato Di mettere la cintura E allora Siccome c'era il negozio Ancora aperto Prima di raggiungere I ragazzi a cena Sono andato a prendermi Una cintura al volo Magico Vero E grazie Eugenio Per il nono Bentornato Col bimbo di Rezab Mi scordi di avere Twitch Per poi ricordarmi Ricordi il giorno della sub Volentieri Un bacione Thank you Mi avete chiesto Che cintura ovi Risponde Di colore nero Comunque Comunque È kamar questa Pinta di là che dorme Posso dire che in realtà Questa parte è lenta Se ti fermi a leggere tutto Perché per ora Non mi sembra Così infinita Certo Poi ci sarà la chiamata Con Con Clavel E tutto quanto Il discorso del professore Blablabla Però non è così lunga Ti ricordi di me? Certo che mi ricordo di te Pepe Come dimenticarsi Di un ometto così Gnocco Maro Maro Se soltanto Non fossi digitale Cosa ti farei? Cioè Volevo dire Muoviti Papapapapapa E il Pepe Ma no, il Pepe è un meme vecchissimo Avrà tipo sette anni il Pepe Oh no, che cosa è cursata? Il libro è viola ora, no Cursatissimo Dai, il Pepe, muoviti Sei un meme morto proprio come i tuoi genitori Volevo dire Oh, ma hai sempre avuto quella magica cover tu sul telefono? Non me la ricordavo mica Perché c'hai un Floet? Sarà forse Azeta? O un discendente di Azeta? Vabbè, comunque Inizia anche il sentiero leggendario Ora dobbiamo far partire il sentiero del Team Star E siamo tutti contenti Talos e Paldea teoricamente confinano E se facessero dei remake di sesta dopo questi titoli Non mi stupirei neanche Cioè avrebbe perfettamente senso se ci pensate Dato che quelli di Quinta sono teoricamente Come dire Ah, mo c'è Cassiopea che mi ha hackerato Vero? Bella, Cassi Come stiamo? Tutto bene? T'ha a posto? Vai Ci vediamo presto alla prima base del Team Star Mi raccomando Fai il bravo La brava Cassi Quelli di Quinta li schippano per un motivo ben preciso Ve l'ho detto Non puoi fare un remake Perché o fai soltanto il remake dei primi due Che però lasci la storia incompleta O fa il remake di tutti quanti Ma non penso che qualcuno si metta O meglio, non penso che dall'alto decidano di fare il remake Di ben due titoli diversi che hanno flopato già al tempo Certo, ora col fattore nostalgia magari venderebbero anche di più Ma comunque non sarebbe perfetto E quindi o fai un terzo sequel Un bianco e nero 3 Oppure non ha senso farlo Perché o devi fare 12.000 sequel Però in realtà Platino non è che sia un sequel Platino in realtà è soltanto un La versione game of the year Non so come dire Quelli di Quinta secondo me sono Tosti Da rifare Vabbè dammi in presidenza Non puoi fondere i due giochi Perché sono letteralmente La stessa storia Che inizia in bianco e nero E finisce in bianco e nero 2 Dopo tot anni dalla fine della lore del primo Quindi o riprendi soltanto il primo e sti cazzi Vaffanculo la parte del sequel Oppure non lo fai proprio Oppure li fai tutti e due Con due titoli diversi proprio Nel senso che magari fai il remake di bianco e nero Nel 2023 E nel 2024 fai uscire il remake di bianco e nero 2 Oppure fai bianco e nero 3 Però non so come li gestiranno Sarà un casino Vabbè La ringrazio per essere venuto Paolo Si figuri Dov'è il bagno che devo cambiarmi? Scusate Sì mi trovo benissimo all'Accademia UV In ogni caso forse si chiederà come mai non le abbia parlato prima in mensa Invece di chiamarla qui in presidenza E presto detto C'è un mio caro collega che vorrebbe parlarle di una cosa molto importante Ok Spero che non mi chieda di fare investimenti in crypto Perché altrimenti lo prendo a sberle Oppure un leggende Un leggende Qrem sarebbe perfetto E grazie God Slayer per il tredicesimo Bentornato Un bacione Thank you Thank you Thank you Giga qualicioni ci sono per te Oh yes Mamma mia Daddy Turum Che sesso di uomo Che sesso Hello Paolo Piacere di conoscerti Il mio nome è Turum E mi occupo di fare ricerche sui Pokémon nell'ala zero Fra Se vuoi le ricerche puoi farle anche su di me Sono tutto tuo baby Vuoi fare delle ricerche nelle profondità? Eh Guarda quanto son profondo Vieni a testarmi Cioè volevo dire Me lo fa venire Turum Pessima Lui è un ex studente del nostro istituto Nonché un eccellente professore Pokémon Vieni nella mia di area zero Frate No Oh c'è da Drake Ciao da Drake Come stai? Aspetta 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 che se no non ti vedo mai Ok Ok ora ti vedo Andrò dritto al sodo Paolo Numero di matricola 805C393 Poi Data di nascita Hai altro? Vabbè Hai con te un singolare Pokémon Che si chiama Miraydon È corretto? Sì Sono proprio io Ti ringrazio per essere stato sincero con me Cosa devo mentirti Devo dirti che no non ce l'ho io Sei stronzo In ogni caso Non temere Non intendo farti il terzo grado Anzi Mi serve il tuo aiuto Che posso fare fra? Mambo che botta di luce Oh Cipollino Da quant'è che non ci vedevamo? Sono contento di vederti in salute Cipollino è il suo nome ufficiale Devi sapere che Miraydon Era sotto la mia responsabilità Una volta Grazie Siumete Per il terzo Un bacione Thank you Giga cuoricione in chat per te E perché Siumete? Hai scritto Siumete Però ti chiami Krabby Paxi E io ho letto Siumete Come il nome del filosofo in chat Perdonami Sono un coglione Anche la Pokémon Originariamente era mia L'hai ricevuta da un ragazzo Di nome Pepe Vero? Ah Ora come ora però Non sono più in grado di badare a quel Pokémon E questo perché? Perché sono morto E sono un robot Quindi tentelo tu Bella Miraydon è ora molto indebolito E bla 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 Andiamocene Pepe ha una sorella? No purtroppo Se no pensa che è Threesome Arrivederci Bella Scusi Turum Non volevo parlare così dei suoi figli Ma non mi potete parlare di spoiler Il gioco è uscito da quasi un anno ormai Threesome con chi? Con Pepe E con la sorella di Pepe Sì è disgustoso Quello che ho detto Ritirate tutto È terribile Scusatevi Non ho pensato al fatto che fossero imparentati i loro due Ce l'ho pensato soltanto in funzione di Paolo qua Del personaggio Non in funzione di loro due fratelli E... Perdonatemi Non ci ho pensato Ehi là È permesso No fuori dal cazzo Nemi Basta Voglio andare a battere la prima palestra Stai silenzio Ah è vero che c'è la mia stanza Andiamo nella stanza di Paolo Tadaaaan Ma non ci crede nessuno Che uno studente Di una scuola superiore Si faccia da mangiare in camera Va là Passerà tutto quanto il tempo A mangiare panini del Mecca a un euro Un salutone agli amici del menù salva euro Che ci aiutano sempre in queste situazioni E pacchetti di ramen Cioè basterebbe letteralmente il microonde E basta Immagino che sarei stanco dopo il tuo primo giorno di scuola Perché non ti fai una bella dormita? Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Nemi, levati dai coglioni che dobbiamo andare Dai, su, 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 fuori dai ball Ciao cara Lascia fare che un pacchettino di ramen Me lo sarei fatto volentieri oggi Maro, che buono che è Anche perché io poi Ultimamente me lo sto pimpando a merda Quando me lo faccio, quelle rare volte in cui me lo faccio Ed è sempre buono Qualche giorno dopo L'inizio della tua nuova vita scolastica All'Accademia Uva Proprio classica schermata di Spongebob Ma sì, ma a me non interessa Nemi A me interessa Pepe in questo mondo Avviso per tutti gli studenti Da oggi avranno inizio le attività extracurricolari Va bene Din don don din 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 We're in Champions League E mi levati dal cazzo Sì, sì, abbiamo già fatto Brenda Finalmente Non vedevo l'ora Presto, andiamo subito al campo sportivo Frate mo Che rottura di cazzi Quando è che possiamo uscire da qua? Teoricamente Mo c'è il discorsone Poi scendiamo in piazza Mi viene data la possibilità di cavalcare il mirai Dole e poi possiamo andare nelle palestre Si chiama Paolo, Teo Grazie a tutti per esservi riuniti Sì, fra Io non ho interesse a stare qua Quindi sappi che farò finta di fare attenzione Ma in realtà dormirò Il tema del vostro progetto sarà la ricerca di tesori Esattamente come l'anno scorso Visto che Nemi l'ha fatto pure l'anno precedente Ah, signor presidio Si dia Marò Il sesso con queste due professoresse Quanto lo farei Ma quello io proprio Non il personaggio Paolo è troppo piccolo Ma io, io Proprio Tearless Raptor Ci farei il gigasesso Comunque Dove vi porteranno i vostri viaggi? Chi conoscerete? E quali imprese compirete? Ah, io cerco di battere tutto quanto il gioco Con un solo le chonkfra Vedite Se non è un'impresa abbastanza buona Figa Se non mi date la laurea ad un'ora dopo questa Io non so chi Ma l'ho che sto primo piano che ansia Non so chi dovreste darla Ma che povera Claudia Va là, va là Claudia Oh, Claudia mi ha rifiutato una cosa a tre con Muso Cioè io a Muso neanche l'ho proposta Però Lei me l'ha rifiutato Perché ritiene che Muso sia un bimbo E io che ci posso fare? Scusate, no, non dovevo dirlo Guarda, l'ho già detto più volte C'era della pioggia che è scomparsa Meraviglioso Che forza Mondo sconfinato Sto arrivando Fichissimo Andiamo Siglizar Eh, che palle Sto senza nafta Ma andiamo Ragazzi Per favore Un attimo di attenzione Vi ricordo che la volaggine di Paldea È estremamente pericolosa Ed entrarmi severamente Evitato da regolamento scolastico Non mi è venuta bene Cacafesta Mi è venuta male la scoreggia La prima volta Andiamo Paolo E vai Verso l'infinito Oh, fra dove cazzo Le bretelle Forse anch'io avrei avuto Le bretelle Ma avrei sempre La schiena coperta Vero? Fra anch'io voglio le bretelle Ah, vedi che ce le avresti Le bretelle No Non ce l'hai la bretella A meno che non corrisponda perfettamente Che non combaci perfettamente con le spalline Sì C'è Che peccato Vai con quella invernale Te prego Nemi ti prego Cos'altro mi devi dire ora? Hai cagato il cazzo Paolo Paolo Dimmi La ricerca di tesori è iniziata Cioè Che cazzo annuisci Scemo Ah, giusto Tu non sei proprio un cazzo Vieni con me Ti spiego tutto Che stai facendo Ok, bro Quando finisce Intorno alle 11 Di solito Le live Sono dalle 7 Alle 11 Del lunedì al venerdì La ricerca di tesori È in pratica L'evento principale Dell'Accademia UV E sebbene Si chiami così In realtà Non c'entra proprio molto Con i tesori veri e propri Devi trovare tutti quanti i componenti Per creare il four suite definitivo Per l'Accademia UV Il punto è viaggiare in lungo e in largo Per Paldea Facendo tante esperienze Yeee Che bello Puoi provare a sfidare le varie palestre O dare una mano a chi è in difficoltà E poi puoi anche andare in cerca di veri tesori Se ne hai voglia Io voglio semplicemente che Eh L'unica voglia che ho in questo momento È uscire dalle mura di sta città Che rottura di cazzo Muoviti Muoviti Veloce Eh la parte iniziale è un po' lentuccia Però da qui in poi si parte a manetta Adesso arriva Pepe Che mi chiede di andare dall'altro lato Perché non è giusto che io segua Nemi Poi arriverà con la rompiballe di Cassiopea A chiamarmi e dirmi che devo intervenire per il Team Star E bla 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 E bla 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 Muovetevi Bla 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 Polvere di stelle Ma rose ci avete da parlare Tutti e tre Che rottura di balle Bella ragazzi Beh adesso torniamo a noi Ci aspetta un'avventura strepitosa Potrebbe anche esserlo Se solo mi desse la possibilità Di effettivamente viaggiare Turbo cacapalle muoviti Muoviti Hanno lasciato gli update? Ah non lo sapevo Ah va che belli che siamo Con cipollino Ce l'abbiamo quasi fatta eh Ciao Bebe Nemi Ci vediamo tra poco nella città della tipa di colore insetto Di colore? Di tipo insetto? Di colore insetto? What the fuck? Che cazzo ho appena detto? Alleluia Alleluia È finita la intro Ora siamo liberi di poter fare ciò che ci pare Quindi punto primo all'ordine del giorno Andiamo a comprare dei calzini bianchi Perché questi qua mi danno fastidio Non hanno un richiamo a niente Sono proprio terribili di colore nero In effetti era una cosa importante da fare questa No Era giù Era già in piazza Turbo scemo Calzettone bianco Ho già più il suo perché Vai 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 Oh così molto meglio Così decisamente meglio Col calzetto bianco Va bene Quindi swag sistemato Ora che percorso dovremmo prendere? Teoricamente se andassimo Di livello per livello Quindi cercando di avere una storia sensata Per la crescita del nostro lechonk Dovremmo fare Palestra di tipo coleottero Titano di tipo roccia Palestra di tipo erba Titano di tipo volante Team star di tipo buio Palestra elettro Team star di tipo fuoco Titano di tipo acciaio Palestra di tipo acqua Team star di tipo veleno Palestra normale Palestra spettro Titano terra Palestra psico Palestra ghiaccio Team star Folletto Folletto Titano drago E infine Team star Lotta Quindi sì L'ordine corretto sarebbe Coleottero Roccia Erba Volante Buio Elettro Fuoco Acciaio Acqua Veleno Normale Spettro Terra Psico Ghiaccio E infine Folletto Dragolotta Se andassimo in ordine Di questo typing Avremmo proprio anche i livelli Che scalano pian piano Salendo sempre di più Quindi direi di cominciare Da quello più basso Ossia 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 La palestra Di tipo Coleottero Ah e comunque Prima di andare a vedere La palestra Di tipo Coleottero Devo vedere Di che dimensione È il mio Lechonk Dimmi di che taglia È il mio Maialone Dimmi di che taglia È e vediamo Sembra un po' Più piccolo Del normale Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Che è un po' Più piccolo Del normale Dai Soltanto perché È di 14 Millimetri Non è vero Che è più piccolo Del normale Uffa Ne abbiamo Un baby Lechonk He's very small Leggi il mio messaggio Sopra È importante 3 2 1 È una grandissima Stronzata Ci scommetto Quello che volete Perché mi fa ridere La parola titano Perché è titano Quindi poppa più Appunto Immaginavo Dovevo aspettarmelo In effetti Roto 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 Pronto Ciao Sono io Nemi Ho un'ideona Perché non stai Cazzo zitta Che era Sto casino Fuori di casa Amaro Sembra che qualcuno Abbiamo fatto cadere 450 kg Di acciaio inox Giorgio Mastro Cavalier Custode Dell'acciaio inox Ok Allora Da cosa cominciamo A parte che la mia voce È andata completamente Quindi magari A fine live Una bella caramellina Per la gola Non me la toglie nessuno Sì sì Livellare in giro Posso farlo Però più che farlo Con i selvatici Vorrei farlo Con gli allenatori Livellare Non il sesso Quello preferisco Farlo con i pokemon Cioè volevo dire Anche perché Nell'avventura principale Io gli allenatori Li ho ignorati Completamente Quindi se qua li affrontassi Sarebbe carino Si chiama pioggia Figa Da quando è che piovono Chiodi dal cielo Preoccupante Va che bellino Il mio baby lechonk Is very small According to that lady He do be very small Ok E che già voce Fa un botto di danno E no Non cominciamo Con paralizzante Ti prego Ti prego Ok Andando giù Lo scatterbug Cerchiamo di non portarlo Sopra al livello 20 Prima della palestra Altrimenti è un casino Se riusciamo a star sotto Me Bastarda Col drift Vai di incantavoce Ok Ora sto per fare Una domanda stupida Che forse stupida Non è Perché me lo sono Dimenticato completamente Io so con certezza Che le mosse Di tipo Normale Non abbiano effetto Sulle mosse Di tipo spettro Ma spettro Ha effetto su normale No vero Non mi pare Che abbia effetto Oppure si Beh Pesti per salve Benvenuto E' una normalissima live Per noi No Non hanno effetto Si hanno effetto No non hanno effetto Non hanno effetto Perfetto Quindi teoricamente Lui non mi può colpire Quelle mosse spettro Perché mi stia aprendo Quelle mosse volante Però non mi può aprire Quelle mosse spettro Potrei aver bisogno Di curarmi qua Sicuro Sì Perché altrimenti Mi fa fuori Forse un altro colpo Riesco a reggerlo A meno che non faccia Brutto colpo Benissimo Ok Lotta Non è effetto Su spettro Ma spettro Su lotta Ok 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 Che culo Sarei morto Ma basta con sti brutti colpi È secondo di fila E muori Drip Bastardo Colpo di fango Eh Colpo di fango Inizia ad essere Già interessante Come mossa Vero Che ti tolgo Hmm Non è coverage Però è danno Nei confronti di Non lo so Se usata I ripetizioni Da uno più Pokémon La potenza Della mossa Aumenta Dovrei togliere Incantavoce Mi serve Incantavoce No In realtà Mi servirebbe Al livello 21 Cazzo Eh Mi servirebbe Per il team star Di tipo buio Pesce di sì Carlo Ma non ne sono sicuro Premesso che Colpo di fango Mi può servire Per ben più Di una Di una singola cosa Allora Fermi Allora Carineria Volendo La posso craftare Teoricamente Con cosa La posso craftare Tandemouse Fido E Tinka Tinka Bastardo Tinka Tinka E che Cioè E che Giavoce Per ora È la mossa Che mi fa Più danno Quindi Mi pare Stupido Toglierla Però Allo stesso Tempo Più Avanti Andiamo Più Le Chonk Diventa Un Pokémon Fisico Quindi E che Giavoce Teoricamente È quella Che mi Servi Di meno Attualmente Tanto 55 Terra È meglio Di 40 Normale Nonostante La stab Forse Perché Mi dà Più coverage Quindi Vai Vai Con colpo Di fango Eh Lo so Che Potrebbe E' stata Una scelta Di merda Però Diamo colpo Di fango Sì Le due Fottute Netherstar Quindi Per dire Posso investire Un Marip Che poi Fagli Del Big Danno No E allora Forse Ho fatto Una cagata Però teoricamente La stab Gli dà Un 50% Di potenza In più Quindi E che Giavoce È 60 Di base Tra virgolette Mentre Colpo di fango È 55 Però Beh ovviamente Sono paralizzato Però mi dà La possibilità Di fare colpi Super efficaci Su tipi Che altrimenti Non sarebbero Coperti Da colpo di fango Quindi ci sta Ok Vedo che Fungere Funziona Non volevo Toccarti Fra Scusa Scusa Starly Perdonami Ma è un piccolissimo Small Live It's a very small Small Live What a cutie Chissà se incontrerò Shiny In questa avventura Io temo di no Ma chissà se L'incontrerò Figata Foxy Divertiti Divertiti E goditi L'Irlanda Mi raccomando Godital Anche per me Che mi manca Sempre tanto Non rimanermi Paralizzato Eh sono morto Bravo Le Chonk Ok Small Live Non mi conviene Attaccarlo Allora Prima di fare Altre stronzate Andiamo a curarcili Fanculo Pensavo fosse Uno Small Live Shiny Invece Era soltanto Un Sunkern Ma Ora che so Che i Pokémon Shiny Non fanno effetti Né visivi Né sonori Minchia C'erano sempre Gli occhi Apertissimi Per cercarli No no Te la segna Te la segna Foxy Se refresci Forse puoi anche Condividere Il messaggio Della Ognolo verde Che all'ombra Sembrano un po' Simili Due colori Più Ah è vero Posso farmi La cosa La fotocamera Com'è che si cambiavano Le schede Forse Forse da qua Dove cazzo è ogni volta Sto minchia Sto minchia di Pokémon Ma perché mi scomparo Ogni volta Sto stupido Maiale Eccolo Le cionche No Ferbi Ah no L'icona Mi va bene Cambia foto Foto Il profilo Avete la fotocamera Miniatura di YouTube Essere piace Ah Nascondi guido Aspetta Com'è che si faceva Guarda che bellini Che siamo Io e le chonk Anche se fa cagare Però va bene È venuta terribile Però la tengo Magari vedo di farmela meglio Sta cazzo di foto Allora Lì c'è un altro tipo Che ora sono intanto Le 10 17 Ma in realtà Ma in realtà Se ci muoviamo Riusciamo a fare Sia Moldulzia Che forse Anche C'è un po' Certo è colpa del Metà veleno Ma che cosa stupida Lo stesso Certo che non le volvo Leo È mono le chonk Proprio Sapete che se dovessi trovare Shiny in giro Li catturo e me li Tengo da parte Così poi me li passerò Su scarlatto Non appena Ci sarà la compatibilità Con home Però per ora Faccio così Che cazzo applaudi Stronzo Beh oddio Etere non è male Se riesco a riempirmi Di etere E quant'altro Buono Che cosa stupida Vediamo se riusciamo a pagare Il tutto Stato andando indietro Anche sto giro Mi sa che terra Non regge terra Mi sa che terra Non regge terra Esatto BLJs Vai col BLJ Termi ce la faccio Yes Yes Se ho capito come fare Regà siamo a posto Yahoo 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 Ne hai una di cose Di sigaretta Fra No mi spiace Però una lattina di birra Se vuoi Ah il terrasfera Lame Per scatterbug A livello 8 Direi che un paio di azioni Dovrebbero bastare E anche comodi comodi No pro 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 E lo so che violetto a molti non è piaciuto O comunque scarato Io personalmente non li ho disprezzati Certo Rigiocare lo stesso titolo Dopo qualche mese Che l'hai giocata per una volta Spesso è una cosa che non regala mai troppe emozioni No vabbè No vabbè No vabbè Ho imparato a farlo adesso Perché ho capito effettivamente come muovermi Ma funziona sto trick Cioè quindi volendo posso scalare anche qua Va a provare So che a molti non è piaciuto Io personalmente non l'ho disprezzato Eh vabbè Ho sbagliato Cazzo Allora perché Distintivamente mi viene da prendere un altro tasto No questo è troppo No? Non è troppo? Non è troppo? C'è sempre da qualche parte Un piccolo leggio A cui aggrapparsi? Ok Se diciamo che giocarlo dopo qualche mese Non è il massimo Perché tutta la parte che Ti vivi per la prima volta Di storia Di lore Di dialoghi La rivivi di nuovo E non è mai Interessante come la prima volta Però capisco il perché a qualcuno non si è piaciuto A me personalmente Il gioco Oh Per me poteva starci Vabbè comunque mi sono incastrato Oh aspetta che c'è Eppini E Eppini mi dà un po' di 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 exp Cazzo è vero sono paralizzato Sto tutto lento Che tega Che fa copione? No no Proprio la replica è istantaneamente la mossa Sì Ora vado a fare la palestra Perdonatemi Perdonatemi Che io mi perdo Questo gioco è terribile Cioè in realtà è meraviglioso Ma per me è terribile Oh Pip Che cazzo vuoi? No in realtà a molti Non è piaciuto davvero A livello di community È uno dei giochi Meno apprezzati Di sempre Credo E ripeto Capisco il perché So che molti Si sono fermati Addirittura prima Di dove sono io adesso Perché effettivamente Le prime due ore È tanto dialogo Ma poi come potete vedere Non ce n'è quasi niente Di dialogo A meno che tu Non stia cercando Di lasciare il gioco Allora a quel punto Certo che Che c'è un botto Di dialogo No mi si gira Peccato Ah Stupido Anche a me è piaciuto tanto Per me è in top 4 Top 3 Come Come generazione Ma davanti vedo Vabbè X e Y Perché mi sono piaciuti tanto Non perché Siano obiettivamente Migliori Obiettivamente Credo che ci sia La quinta gen Davanti E poi Una tra terza e quarta Ci può stare Cioè per dire Prima e seconda La seconda è bellina Di certo meglio della prima Di certo è meglio della settima Questo titolo Però la seconda è È più bella esteticamente Che a livello di storia La storia è abbastanza lame Cioè è vuota Non c'è storia Ma anche il primo Aspetta vedo questo Diglett La prima e la seconda Non hanno storia La terza è stupida È fondamentalmente Stupida la terza Quarta Quarta già mi piace di più Quindi per me Questo gioco sta Sta dietro Soltanto a Sesta Quinta e quarta Non hanno una storia Interessante In quel senso Cioè è una storia che Urcatroia Il 17 Brutto Erroraccio Questo forse Da parte mia Posso sempre fuggire Ricordiamocelo Cioè non potete dirmi Che avessero una Porca troia Che tega Che avessero una storia Vincente Perché per me Non ce l'hanno Se c'è trappo arena Potrebbe morirmi qua Porca troia Allora Punto primo all'ordine del giorno Curamelo Curamelo Oh ma tanto Non è ranfinita Non è una Una Nazlock Cioè anche se mi muore Sti cazzi È che non ho voglia Di farmelo uccidere Bacca minchia Vai Vai antiparalisi Ora mi uccide Ottimo utilizzo Dell'antiparalisi Grande Molto bene No I miei 104 Pokedollari 104 Numero veri Fanni Vero Maroc Checcata Dall'altro lato Quanto cosa cazzo Ho sbattuto Contro una hitbox Inesistente del Flashlink Te prego Te prego Mamma mia Che fastidio Non potessi muovere Normalmente Con sto gioco Cioè perché Non ho ancora sblocato Tutte quante le funzioni Del Del Miraidon Ah devo cambiare Il nome a Miraidon No Secondo me vale Proprio anche Il tipo di gameplay Che ha fatto Sì che la gente Apprezzasse Arceus Che è diverso Da tutto ciò Che abbiamo visto Finora Per Pokémon E ha il suo Perché È stato proprio Divertente Da giocare All'idea All'idea Di quello Che è la storia Che può essere Divertente O meno Ci può essere Interessante O meno Quella lì Che è una questione Principalmente Di gusti Il gameplay Era diverso Io l'ho trovato Proprio divertente Quindi secondo me No Allora Magari per qualcuno Sì Il fattore Nostalgia Della quarta gen Ha funzionato Ma per tanti No Per tanti È proprio Il tipo Di gameplay Diverso Dal normale Che ha funzionato Bene Ah guarda qua Che c'è un allenatore Hello Salve Persona Benvenuto Grazie Fra Sfidiamoci Ok Ok Stato a parte Con picciu Fan fact Picciu In qualche dialetto Italiano Vuol dire Pirla E con quella faccia Beh Non mi stupisci Che abbia scelto Questo nome Colpo di fango Non so se portarmi Le cionca Al 15 16 Oppure se andare Direttamente Così a cazzudone Mi sa che così a cazzudone Mi apre Con solo le cionc Uomo mi sa che ti ha bloccato Le parole Dietro a un link Perché magari hai messo Un punto invece Che uno spazio Allora l'ha bloccato Come spam di link In che senso Poi vabbè Dove lo metti Nella timeline È abbastanza Logico Indietro Giovanna Giovanna Cameriera È quella della vernice Che state facendo? Sto dipingendo E Giovanna Mi aiuta Brava Giovanna Brava Ora ci provo A fare lo spin Con Mirai No Che cazzo hai fatto Era necessario Fare rafforzatore Sì che era necessario Gran figlio di Troia Stupido pelato Scusate io posso dirlo Sono pelato Quindi lo faccio Ho una domanda Seppierino Aspetta a parte che Seppierino ha Senza la H Vabbè Seppierino ha 349 mele Quante mele Servono per fare Una torta Va almeno una Volendo può usarle Anche tutte 349 Non Non ci sono informazioni Riguardo la dimensione Di suddetta torta Quindi Boh Non è possibile Rispondere alla domanda Inconclusive No Stavo insultando Comunque il tipo Prima eh Quando ho detto Stupido pelato Non stavo insultando Me stesso Cioè Certo Potrei farlo Però Non lo stavo facendo In questo In questo Specifico caso Posso catturarlo Posso Che dai Me lo prendi papà Il gufo con gli occhiali Il giro su me stesso E poi devo chiamare Il mirai Do un cipollino Dimenticavo Madò Crostata alle ciliegie Buona Buona la crostata In generale Però non quella Con la marmellata Proprio la crostata Con i pezzettoni Di frutta dentro Posso dire Che mi stanno Sul cazzo Tutte quanti Questi Cosi di stato Che mi stanno Rompendo i coglioni E prima C'è la paralisi E poi Questa E poi quest'altro Che due coglioni Ok Se non mi curo Qua non ne esco più Mi sa No Ok Forse ne esco più Sì ne esco Ne esco Sapete di cosa Inizio ad avere Tanta voglia Io ultimamente Di gelato Fanculo Quanta voglia di gelato Che inizio ad avere Tipo oggi Non ho pranzato Perché ero ancora Pieno da ieri Che abbiamo fatto Grigliata Per l'appunto Però porca Troia Che voglia Che avevo di gelato Dopo cena Avevo famissima cena Eh che palle Ste cazzo Di paralisi Madonna Gli status move Saranno notori Di coglioni C'ho una voglia Di gelato Di metà Basta Comunque Anche io Ho una gelateria Relativamente Vicino a casa Che non so Se sarà ancora Aperta Quando Finisco la live Eh no Infatti Sapevo che Volesse dire Coglionato Tipo Pirla Piemontese Ma scusami L'antiparalisi Cioè Non hai usato L'antiparalisi O Mi hai Riparalizzato Cioè Ho usato L'antiparalisi Davvero Ma Sono un coglione Allora Eh ma Allora Che cazzo Ho fatto Cioè Siccome Ho sbagliato Strumento Mi è saltato Il turno Che cosa Stupida Guai Adesso Mi riparalizzi Di nuovo Grandissimo Figlio di Troia Sì Sto parlando Col bambino Inanelliamo Due tre Colpo coda E poi Lo buttiamo Giù Ovviamente Fa brutto Colpo Marò Che rottura Di cazzo E questo È soltanto Una battuta Una battuta Una battaglia Contro Cioè Questa è una normalissima battaglia Contro uno Shroomish Al dieci Io la vedo Grigissima Per questa serie La vedo Molto grigia Uh bello Il colpo Perché non mi si paralizzi Il pokemon Siamo messi bene Conviene Conviene che mi curi Perché non credo Nel brutto colpo E vabbè Ma non è possibile Che così Così tanto Tolga Parassi seme No ma poi la lentezza Del parassi seme Aiuto Vado Che stallata Gigantesca Da parte di entrambi Azione E poi azione Di nuovo E siamo a posto Abbiamo finito È quasi fatta È quasi fatta Tai le chonk Un'ultima azione Ti prego Mamma mia Muoviti Ah Non ci sono tentativi Non è una Nazlo Che è Un unico tentativo Mamma mia Che botta Di vita Stupido Bambino Rompicoglioni Allora Punto primo Non fa nulla Di strano Se salto Mentre ru in aria Ma sul posto Mentre saltavo Ah Ah beh Sul posto Che scatta Invece Che andare Liscio Mentre gira Ok Vabbè Pensavo Fosse qualcos'altro Quello si Lo facevo Anche con Coraydon Pensavo Che bella Che bella Che bella la parola Citrullo Eh Per me Guarda Ti dirò la verità La settima gen Sta obiettivamente Sotto questa A Lola Proprio come Come gioco Poi vabbè Ripeto A livello di aspetto Grafico Non grafico Per me Quello È poco rilevante Cioè So che non è un gioco Perfetto questo Anzi Però comunque Lo ritengo godibile A prescindere A Lola Non l'ho sopportato Comunque questo È quello che succede Sì 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 Sminchia tutto Altra cosa Miraydon Dove scendere da Miraydon Ah Non posso ancora Metterlo in squadra Miraydon Mi sa È una cosa Che posso fare Più avanti Appena prendo Un po' di forze Più avanti Musica Ok Ok Andiamo a fare un ride Visto che l'avete proposto C'era il ride fuoco E siccome ho grasso spesso e il ride fuoco è qua vicino Direi di puntare quello Dopodiché una volta fatto il ride Direi di tornare indietro E andare a fare la palestra di Moldulzia Anche perché sono le 10.40 Oggi è stata una live lentina Già Dalla prossima magari diciamo a fare qualcosa in più Si vedrà Dove cazzo stava Il ride fuoco Qua dietro Comunque non avendo ancora una palestra Siamo tutti i ride da una stella Non di più Ma sono già le 10.40 Tra l'altro Ma è stata due ore fa Brava Se fossi multimilionario cosa comprerei per primo Ah boh No questo è Petlil Psico Vabbè proviamoci lo stesso Vai chiunque si può unire Allì Ah forse a livello di post game Quelli di settima gen erano ottimi Io parlo a livello proprio di storia di gameplay del primo Poi nel post game Io non l'ho mai giocato di niente O di comunque poco Quindi ok Quello ci sta Quello ok ci sta Ci si gusto Si e no Nel senso Secondo me questo qua ha molti più misteri Molto più approfondibili Però ok Cioè alla fine è un questione di gusti Credo che se dovessi fare una lista obiettiva Però questo sarebbe comunque sopra Obiettiva Soggettiva no ovviamente Perché a me è piaciuto un sacco la sesta E so che la sesta non è uno dei giochi migliori Che ci siano in giro anzi Però Però credo che a livello di obiettivo Questi giochi ci siano davanti alla settima Petli il psico Pessima scelta Vabbè che è di una stella Quindi chi se ne frega Gli altri lo faranno fuori in mezzo secondo Tutti shiny Tranne mia oscarata Tutti shiny Vai azione È già morto È già morto Benissimo Beh in effetti non è stupido fare i ride Per accumulare Anche tipo le teraliti Se posso prendere già ad ora Non lo so Non penso Forse la teralita è dalla Delle tre stelle in su Beh però beh Da caramella esperienza Magari con quelle lì li vediamo un po' più in fretta Fa vedere Quanti livelli guadagna Per capire Dagli una caramella Anzi dagli Delle cinque Sono cento A caramella Ok Vuole imparare Supplica Il pokemon si avvicina al bersaglio Con farà cattivante Gli ruba lo strumento È più che azione Decisamente meglio Menta decisa Il suo attacco aumenta più facilmente A scapito dell'attacco speciale Eh cazzo In effetti la menta sarebbe giusta questa C'è andata di culo La piuma non ha senso Però la menta forse sì Ma la menta gliela dovrei dare tipo oggetto No? Sì sì Questo quanto dà? Ottocento Vaca poi è già il sedici Va bene Non so Magari per la menta aspettiamo Però deciso non mi sembra stupido Che gli aumenta l'attacco Piuttosto che l'attacco speciale Premesso che Forse in questo momento Non ha molto senso Perché ho due attacchi Speciali per l'appunto Che Mi servono Attualmente E per le prossime battaglie Però più avanti può aver senso Quando abbiamo un pokemon che ha Accesso a praticamente tutte quante le mosse O quasi E comunque salve Buonasera e benvenuti In quel di Moldulzia Non è neanche apparso a schermo Entriamo subito in palestra E andiamo subito in palestra Ciao Noah Domani no regà Domani Super Mario 64 Io in realtà Voglio prendere l'oggetto Vabbè Guarda la musica di Moldulzia Ma voi chi cazzo siete? La capopalestra qui a Moldulzia? La capopalestra di Moldulzia è Aceria La pasticcera più agguerrita che ci sia Non farti ingannare Dello sospetto grazioso Qui a Moldulzia Siamo nel bel mezzo Della festa delle olive Anche l'esame della palestra Fa parte dei festeggiamenti C'era un esame qua? Ah era quello dell'oliva Che dovevi rimbalzarla in giro È vero È vero Dimenticavo Oh no Oh Ciao Paolo Ciao Nemi Se sei venuto in questa palestra Vuol dire una cosa sola Hai deciso di ottenere le medaglie Delle palestre Sfittare la lega Pokémon Giusto? È certo Devo farlo per completare il gioco Pirletta Ogni palestra Un'esame diverso Chiede allo staff Ok sarà fatto Basta che stai zitta Molto gentile Ciao Camer Ti chiami Paolo Giusto? Sì Sono proprio io Il Paolone Per affrontare la capopalestra Dover superare l'esame della palestra Cioè il rotolo Della Della oliva Eccola La ruzzolata dell'oliva Non mi ricordavo come si chiamasse La ruzzolata Marò Che brutta parola Ruzzolata Dove ora ti dà 30 di olio Se ti fai il minigame? Fica Non lo so Forse avevo fatto un'altra Non ricordo Fucking Paolo Allora dove cacchio è Dove minchia lo fanno Il gioco della ruzzolata State fermi Marò Fate meno palestra Ho una domanda Dove devo andare? Qua Dall'altra parte Benissimo Non mi ero affatto perso Ve lo giuro Uh assorbi bacio Forse è meglio in cantavoce però No che fossero i campi fuori Moldulzia C'ero Non mi ricordavo quali i campi fuori Moldulzia Ah no aspetta Devo parlare con qualcuno Sicuro Signorina Benvenuto al nostro campo Qui si svolgerà la ruzzolata dell'oliva Va bene Vi giuro che sono bravissimo A fare questo minigioco Aha Non taglierò neanche una volta Che era sto verso? Che che ha fatto un chinotto a qualcuno? Senza il mio consenso per giunta Ok La cosa bella di questo esame Della ruzzolata dell'oliva È che se riesci a farla rimbalzare Nel modo giusto Ti skippi Tipo tre quarti Nel percorso Aha Che cosa stupida Devo farlo con Miraydon? Ah È vero che posso muovermi con Miraydon Andiamo in qua Che cosa stupida Ho saltato tre quarti della pista Grazie Miraydon Molto gentile Non mi ricordavo di poterlo usare Schermo nero Infinito schermo nero Interminabile schermo nero Schermo nero Turbo megagiga infinito Oh grazie Salve Ottimo Paolo Grazie a te Avremo di sicuro un gran raccolto Anche l'anno prossimo Ok posso Posso rifarla di nuovo È stato divertente Fottiti Torniamo alla palestra Attacca E il burrito Madò Che cosa ha cursato Quella canzone Uff Ma uff cosa Fra Che casino Quella era Mi son Ancaccato La bandalogna Ma che ci fanno Gli smalliv Vabbè Ciao Paolo Sembra che la luzzolata Si è andata benissimo Congratulazioni per aver superato l'esame Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro la nostra capopalestra Marò quanto la odiavo lei Era insopportabile Un'allenatrice rompi i coglioni Ciao il gatto Vieni qua il gatto Vieni qua Buonanotte che sta andando Ciao il gattito Ecco guardiamo un lato positivo Effettivamente lei è la prima Quindi tutte quelle che verranno dopo di lei Saranno molto più sopportabili Ah Viviglion Ecco qua Mangiale pure a volontà Pasticcino mio Fa vento il gatto E poi vola via Oh Che abbiamo qui Che allenatore dolcissimo Fra c'ho 12 anni Di ricordo Ti sono immensamente grata Per aver fatto ruzzolone L'oliva così bene Durante l'esame Grazie Ho tagliato tre quarti Del percorso Sono Aceria La proprietaria Della pasticceria Dolce Sapindo Sapindo Mi dà proprio fastidio Perché non è sapido Non è niente Aceria Vaffanculo Ma i gatti Fanno quell'effetto Su chiunque Signori e signori Pronti tutti quanti Stiamo per cominciare La nostra prima Palestra Con solo le chonk Aceria Capopalestra Di tipo coleottero Parte mandando in campo Chi? Sinceramente non ricordo Nimbo Ok Dovrebbe essere Mono coleottero Il pirletta Vai le chonk Ma che figurone Che facciamo oggi Lei se non sbaglio Aveva tè di ursa Come ace Vero? Ok Gestibile il tè di ursa Ma Se mi terra cristallizzassi ora Fa benissimo Vai di supplica Inchia Ne ha tre di pokemon Me ne ricordavo solo due Forse anche uno small Mamma mia Questo primo piano Super solenne Sul mio pink le chonk Ahia doppio calcio Ahia doppio calcio No su dovuto E quella erba Vediamo che ore sono Magari proviamo a fare Qualcos'altro Dopo questa palestra Buono il danno Su Nimbo Riprova di nuovo Regimi il doppio calcio Va bene Che andiamo a metà vita In realtà Non va per niente bene Il fatto che si vada a metà vita Ha fatto il buon Giovanno Ok Il secondo è Taruntula Giusto che mi ero dimenticato L'esistenza di Taruntula Ok ok Buono Qua di supplica ancora Taruntula dovrebbe caderci facile Perché dovrebbe avere la difesa Di un rissino sbriciolato Invece no Turno di cura No reggiamolo un altro Poi andiamo di super pozione Quando manda in campo Il tetto di ursa O forse è stato stupido Da parte mia Dovevo curarmi adesso E poi attaccare Il tetto di ursa Vabbè Va bene uguale Va bene uguale Ora capisco Di che pasta sei fatto Vediamo se riesco a lavorarti Per venino Frate Ripeto Ho 12 anni Cioè lavora me Che ne ho 27 Ma non il bimbo Ok cura qua Così ci riportiamo In full vita Al buon lechonk Nel frattempo Lei andrà A maxare Il tetto di ursa Che mi attaccherà Boh Non so neanche io come Che bel po' Che monta è di ursa TRL gem Porca minchia Il danno Che fa con taglio furia Il problema è che taglio furia Aumenta di turno in turno Ed è più veloce di me Porca merda Dovrei usare una difesa X Mi sa A meno che non mi shotti ora Doveve usare una difesa X Bestia Mi sa che gliela devo dare molto prima Prossimo giro Devo prepararmi E curarmi prima Se no perdo turni E non è Non è buono Ok Vabbè La riproviamo La riproviamo E ci prepariamo per bene prima Cazzo Che tega Me 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 Ok 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 Va bene Allora Difesa X appena cominciamo Così gli si busta per bene il tutto E poi lo curiamo Prima di mandare KO Eventualmente Il ragnetto infame Fammi comprare un po' di roba Tipo Ah posso com'è Stanto le pozze Per ora Prende ho 22 Come vanno le lotte Eh fra non benissimo Urca Spero di fare un po' di roba Spero di non dover rifare anche tutta quanta la roba dell'oliva Altrimenti piango Spero mi basti risfitare l'allenatrice La capopalestra Sinceramente non ho mai perso una palestra su sto gioco La prima volta che mi capita Sapete che se dovessi perdere anche ora Mi convene Forse mi convene andare ad allenare Fatemi fare un altro paio di livelli Vado a fare un Un paio di ride qua attorno E una volta che abbiamo i ride Guarda qua tipo C'è un Un drago Andiamo a fare quello Infatti un paio di ride Teoricamente riusciamo poi ad avere il pokemon Al 18 19 Quindi sotto il livello 20 Che è il livello massimo Entro cui ci obbedisce Dopo il livello 20 Non ci ascolta più mi sa E forse per questo motivo Mi sa che la prossima volta Più che fare cloth Ci converrebbe Quasi quasi andare direttamente Da brassius Che è quello di tipo erba Così dopo il cap diventa Il livello 40 Che anche se dovesse crescere Oltremodo Almeno stiamo tranquilli I guess Brassius Clay Sì sì proprio lui Popi Hmm Hmm Vado a ripropare da qua Che BLJs Cazzo E niente Allora andiamo a fare quelli più accessibili Tipo il pokemon erba lì E poco altro Deve imparare a farli bene Ma sicuramente anche sti cazzi Se non imparo a farli Oh che mica Salve Oh è già tanto se sono riuscito a imparare Il glitch quello del volo velocizzato Per finire oltre i confini Della mappa Non pretendete troppo da me Igli Bafferba Vai affronta in gruppo perché è più divertente Che entri te li arano ed esci Attendiamo Qualcuno arriverà vero? Stavo per dire Nessuno vuole joinarmi per Igli Baff Dai iniziamo il ride Fra io e te ce la facciamo Cioè fa tutto lui in realtà Pi 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 di pi di pi Ah cazzo non è neanche un quacquavale Quell'altro pirletta, quello di mezzo Vabbè Poco importa in realtà, supplica Veniamolo Blue Ice si chiama il suo fuoco Non gli tolgo un cazzo Ma per fortuna che c'è Crabrawler Va là Il Crabrawler gli ha fatto il culo con Spaccaroccia Maro Mi hai messo peggio di me Ma non un Blue Ice Occhi blu blu, Ice come ghiaccio Ice Ice baby Minchia dimmi Dobbiamo farci carriere dal Pokémon di un allenatore a caso Ok è morto, perfetto Faccia da pepega che c'ha sto Pokémon Maro Ok Egli buff scompare Cos'è che mi droppi di bello Una caramella rara Ah no Due XS e due S Ok forse un altro paio di livelli Facciamolo un'altra e via In effetti i raid per livellare Saranno comodi Decisamente comodi Questo è in alto Forse no riesco a raggiungerlo O no Devo andare adesso in qua E seguire Questo percorso Dove cazzo devo andare Che devo girare attorno da questo lato Ice Ice E tu pego Maro Mi sceltelo Nossa Nossa Qualcosa in portoghese Ai Se ti prendo Ai Ai Se ti prendo Che rotura di cazzo Devo fare tutto il giro Buonanotta Chi sta andando Tanto ciao belli Per quelli che rimangono Beh Sappiate che sarete tra i pochi Che Resisteranno Fino alla fine di questa live Per vedere le chonk Ottenere la sua prima medaglia Sinceramente non l'ho mai letto Ma deve essere un testo Parecchio stupido Non può come tutte le canzoni estive Guarda qua c'è un'anatrice Altezza 0,7 Peso 200 kg Fra Ma è il mio peso forma Ciao Danilo Ah è Gable Forse non era 205 Forse era 25 Il mio peso forma 70 cm Pog Minchia Eh che cazzo Avrei avuto bisogno Della abilità Che non Non mi dava effetti Secondari Che non so come si chiami Ma c'è un'abilità Che praticamente Fa sì che tu Non ricevi Gli effetti secondari Delle mosse Tipo che se c'hai Il 30% Di flinch Non flinci Se puoi essere paralizzato Se puoi essere paralizzato Non rimani paralizzato Mamma mia Con se è stata comoda Beh Ho un testo Molto ispirato Molto ispirato Forse rompi forma Sicuramente non la ricordo Siamo un succhio Ah finisce appena Resco a battere La palestra Di tipo Con le ottero Poi da venerdì Che è quando Continueremo Questa serie Riprendiamo A fare il culo A tutti Anzi da lì Prendiamo un pochettino Più di ritmo Soprattutto se magari Off camera Mi fermo un attimino A farmare Qua e là Che non sarebbe male Ma soprattutto C'è Tinkatuff Quindi volendo Io potrei insegnare Carineria Già adesso Al mio boy Tornando qui Sempre che appaia Un Tinkatink Che cazzo sei tu? Ah un fleshling Magari qua non appare Tinkatink eh Però che io sappia Di solito Intorno alle rovine Lo si trova sempre Ciao bronzor Eccolo Vai qua Nonna Brenda Come stai? Vero che sei già Mezzo acciaio fra? Spero Bravo le Tionk Che schiva E bravo le Tionk Che colpisce Tinkatink Ok Questo mi dovrebbe Troppare del pelo Quanto me ne dai Di pelo? Oh le Tionk con fossa Si 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 togli Colpo di fango Dagli subito Fossa Quanti peli Tinkatink Ma si ma vai una stella Ma iniziamolo da soli Questi gran cazzi Anche se respawno vuol dire 20 minuti di farming Perché 20 minuti di farming? Per un Tinkatink Ho bisogno di 3 peli E mi servono 10.000 punti Eh no Devo spendere pure punti Sennò si stava Nell'area 1 Sud Tra Dosilla E Mesapoli Ah Davvero Ma Marò che pessimi Pokémon Che mi sono capitati In supporto Sono 3 peli di rock Sì di rock Buonanotte Sono 3 Di Fido 3 di Tinkatink E 3 di Di Tandemouse Cioè paradossalmente Il più difficile Da ottenere È Tandemouse Perché è più lontano A questo punto O Tinkatink Perché magari spuona di meno Però ci siamo Però non ricordo Se craftare le cose Ti costi anche Dei punti Lega Perché in quel caso Me ne costa 10.000 E 10.000 Per farmi carineria Vabbè che mi basta Una sola volta Carineria Però Un po' pesa Ok Bella Rockra Fa la prossima Non catturare Via Ok Un paio di perle Figata Ok Giovedì Nadispor Sì 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 Domani Mario Giovedì Nadispor Venerdì Continuiamo con questa serie Allora Borsa Fatti dare Tutte e tre Le caramelle S Ok Precisamente È il 19 No B Ok No Creatura di cazzo Adesso in poi Per ogni singolo livello Che farà il leciong Dovrò fare Annulla evoluzione Oh mio dio E allora sapete cosa Forse mi conviene Anche togliere La Opzioni Salvataggio automatico No Così se per sbaglio Si evolve Almeno sono tranquillo Eh vediamo cosa fare Più che altro perché Premesso che le violite Mi torna comoda Boh Che rottura di cazzo Perché le violite È comoda Però potrei Tenermi sulla Pietrastante Mentre livello E poi per le battaglie Metto le violite Devo soltanto Trovare la Pietrastante Sì andiamo a Sì andiamo a Dispirare La ceria Non lo so Sono combattuto Non è successo Non è successo niente Rima Io non ricordo Nulla Non ricordo Di aver dovuto Rigiolare Le prime due ore Di gioco No Ciao Delpox Grazie per il secondo Bella Tiera Un po' più L'opinion Però Allora Riproviamo Contro Contro Stapirla Come si chiama Secondo tentativo Contro Aceria Io direi Che Nimble Lo possiamo Affrontare Normalmente Dopodiché Una volta Arrivati A Taruntula Possiamo Uno Darci L'attacco X No Pardon La difesa X E due Curarci Dopodiché Possiamo effettivamente Switchare E provare a combattere Contro te di Ursa Cremonese Che vince il campionato Marò Peccato che non possa vincere La Coppa Italia Sarebbe stato clamoroso Il secondo canale Comunque è Tearless Live Dove ricarico Tutte quanti le live Che faccio su Twitch Dal lunedì Al veredì A partire dalle ore 7 Allora Momento Di Gestione Un attimino Anzi Prima ancora Lotta Supplica Ok Borsa Punto primo Difesa X Usa Così dovrebbe resistere Con un attimino Più di semplicità Tra molte virgolette Poi ai taglio furia Di Teddi Ursa Cura con la superpottina E poi al prossimo turno Te rastallizza Così siamo sicuri Che Taruntula Ci cada E poi siamo già pronti Per malmenare Teddi Ursa Teoricamente Magari un paio di turni In più Riusciamo a guadagnarci In questo modo Non sarà facile Ma un paio di turni In più ce l'abbiamo Se non va neanche questa Regà siamo fottuti Ve lo dico Perché io più di così Non lo posso Puntiziare Il Lechonk Potrei dargli L'attacco X In effetti Non ci ho pensato Non ci ho pensato A farlo Dandogli l'attacco X Che gli boostava L'attacco per due Volte che la difesa Stupido 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 Vabbè Tempo da perdere Non abbiamo Vai di supplica Caramellina mia Minchia Se la mia ragazza Mi chiamasse Caramellina Ammarò Non so Probabilmente Le darei un bacino Sulla fronte Perché è una cosa Carina da fare Però è un po' Troppo carina Non sono abituato A essere trattato In questa maniera Comunque Teddy Ursa Terra cristallizzato Coleottero Vai Lechonk Ti supplica Dimmi che toglie tanto Ti supplico Bravo Bravo Se riusciamo a reggere Due Taglio furia Siamo a posto Ciao Leo Minchia difesa X Che differenza che fa Per la prima volta Nella mia vita Mi ritroverò a dover usare Davvero difesa X Difesa speciale X E quant'altro Perché effettivamente Fanno una differenza enorme Quindi servono a qualcosa A quegli oggetti Non sono soltanto Una farm di soldi Wow Incredibile Vabbè comunque Grazie a Ceria È stato un piacere Grazie Teddy Ursa The boy is dead È la prima medaglia È stata conquistata Dalle Chonk Che mi sale di livello No non mi sale di livello Oh Quindi siamo ancora sotto il cap Cazzo è vero Posso anche bustarli Di pipi su Di calcio E quant'altro Dovrò studiarmi Come funzionino Questi oggetti Perché io Non li ho mai usati In nessun gameplay Nella mia vita Oh mio dio Eh eh pipi su Chiedo proprio Perché dovrò cercare Anch'io di evolvermi Molto molto di più Le mie congratulazioni Caramella Confermo la tua promozione Eccoti questa bella medaglia Come prova Della tua croccante vittoria Inoltre voglio anche Delizzarti con dei dolcetti Esclusivi Fatti con le mie manine Fra c'è il cianuro Scappa Non mangiarli C'è il cianuro Ma Leo Ma in tutto questo Ma io ho visto il team Che ti sei draftato Per l'Ironmon Leo sei un dannato Pervertito Sappi che è lo stesso Identico team Che avrei preso anch'io Ah fino al 25 Non fino al 30 Ok questo è più problematico Del previsto Andiamo subito Da Brassius Direi subito da Brassius E poi facciamo i primi due titani Giusto per dirvelo Leo ha draftato Nel suo team Sia Vaporeon Che Cardevoir Frate mancava Ti mancava lo panno Ed eri a posto Ti auguro tanta dolcezza E squisitezza Nel tuo percorso futuro Grazie Ceria Spero di non rivederti Mai più Mo Brassius Comunque Andiamo da Brassius Ah chi è che caga il cazzo qua Come è andata la palestra Tutto bene Nemi stai zitta Nemi 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 Voglio andare a dormire Grazie Nemi Molto gentile Va bene A questo punto Appena usciti dalla palestra Io direi di prendere E salvare Perché mi pare giusto salvare E salutarvi qui Per riprendere il nostro viaggio Domenica Magari in vista di domenica Faccio qualche ride Qua e là Se c'ho voglia Non domenica Pardon venerdì Ho sbagliato a parlare Però si Nel caso faccio qualche ride Nel frattempo Comunque Io intanto vi ringrazio È stato un piacere Spero che Dalla prossima volta Le live Siano un pochettino più interessanti Perché questo giro Avevamo in mezzo La storia che Ha tirato via Di fatto Un buon 60% Di live Però da adesso in poi Dovremmo avere La strada abbastanza spianata E al di là di qualche Conversazione Qualche dialogo Qua e là A livello di palestre Di titani Dovremmo cavarcela La grandissima E il team Stark È un pochettino più lento Comunque Signori fate i bravi Mi raccomando Ci Ci vediamo domani Con Superman 64 Che proviamo Ad abbassare un po' I tempi Ciao belli Buonanotte Bye 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 Grazie.